Inizia l'open beta, questo lo sapete già, disponibile su Steam, Xbox, Easy, XS e PlayStation 5 che durerà fino al 23 luglio, quindi fino a martedì. La notizia, su cui il buon Vincenzo ha pubblicato una news giusto stamattina, che ringraziamo, è che ci sono stati problemi per l'open beta. Da una parte ci sono stati problemi per noi PC game, li avete anche visti ieri sera se avete seguito la mia live di il mio streaming Maratona di 6 ore, perché i server ovviamente sono esplosi, non funziona un cazzo, code infinite, crash al desktop, ci sono tutti i soliti problemi a cui ormai siamo stati purtroppo abituati. Amazon Games sembra non imparare mai dagli errori, è vero che è un open beta, uno potrebbe dire è una beta, le fasi beta servono poi per questo, per testare il prodotto, sì, sì, tutto giusto, però rimane il fatto che, primo, questo non è il primo MMO di Amazon Games, ma prima hanno pubblicato New World e lo Stark e già abbiamo assistito agli stessi problemi con New World nel 2021 e con lo Stark nel 2022. Seconda cosa, questo gioco esce talmente tra un mese, diciamo due mesi, ecco, meno di due mesi, sono confuso, scusate, diciamo esce tra un mese e mezzo, ok? Se considerate che esce a settembre, un mese e mezzo risolveranno tutti questi problemi in tempo per settembre, io non credo proprio, per citare anche il Mac, non credo proprio, ecco. Francamente ragazzi, non siamo qui a prenderci in giro, non siamo nati ieri, io già mi aspetto enormi problemi al day one, quando il gioco uscirà ufficialmente a settembre. E quindi questo è già un problema per quanto riguarda il PC. Non parliamo poi della situazione che è nata su PS5, perché gli utenti PlayStation 5 purtroppo a sto giro sono stati i più sfigati di tutti. Perché almeno su PC la beta è disponibile via Steam, anche su Xbox Series XS la beta è disponibile. Vedete? Questo è Steam, questo è il Microsoft Store. Il problema riguarda PS5, perché sul PlayStation Store sostanzialmente, come abbiamo scritto, non va, nel senso diversi utenti hanno segnalato che è impossibile scaricare, non si riesce a scaricare il gioco dal PlayStation Store se già è difficile trovare la pagina, proprio la pagina Tron & Liberty Open Beta. Ma se anche riesce a trovare la pagina, non te lo fa scaricare perché ti dà un errore, compaia un messaggio di errore con scritto Something went wrong, try again later. Quindi qualcosa è andato storto, riprova più tardi. Questo put, mi sono informato un po', ho fatto un po' di ricerca e pare che sia un problema che riguarda proprio noi italiani nello specifico. È un problema confinato all'Italia, della serie siamo sempre l'ultima ruota del carro, no? Noi italiani. Tra l'altro, ricordiamo, Tron & Liberty non è manco tradotto in italiano, quindi proprio l'ultima ruota del carro siamo. E anche la stessa Amazon palesemente ci considera l'ultima ruota del carro. Dicevo, pare che questo sia poiché un problema di noi utenti italiani, del PlayStation Store Italia, in cui compare questo messaggio di errore per gli utenti che cercano di scaricarlo. Infatti, pare, e ripeto pare, perché al momento è tutto un condizionale ipotetico, però pare che per poter scaricare la beta, gli utenti italiani debbano creare un nuovo account e mettere la lingua del PlayStation Store in inglese. A quel punto si dovrebbe riuscire a scaricare il client dell'open beta. Cosa volete che vi dica, ragazzi? Nel senso assuido, francamente assuido, che nel 2024 vi siano ancora tutti questi problemi tecnici. Amazon Games... Francamente, ragazzi... Amazon Games non sembra neanche... Non sembra che gliene freghi neanche più niente. Sembra che non gliene freghi neanche più niente di risolvere i problemi. Cioè, se ne fottono. Tanto sono talmente ricchi, talmente grossi. Una multinazionale talmente colossale a Amazon. Che cazzo gliene frega. Il che è ovviamente molto brutto perché c'è proprio un senso di palese disinteresse nei confronti del consumatore. Che è un po' lo stesso discorso che facevo prima con l'hardware. Se vi devo dire la verità, secondo me stiamo assistendo a un periodo buio. Perché è proprio un periodo in cui si vede che c'è un totale menefreghismo per il consumatore. Perché sì, certo, i problemi esistevano anche una volta. Anche una volta i videogiochi avevano problemi, gli MMO avevano problemi. Me lo ricordo molto bene. Però almeno una volta c'era la sensazione che gli sviluppatori o il publisher cercassero di risolvere i problemi. Cioè che ci tenessero a risolvere i problemi. Se penso ad esempio a quando, non lo so, uscivano le espansioni di World of Warcraft. O anche a quando all'epoca era uscito World of Warcraft nel 2004, vent'anni fa. Sì, certo che c'erano stati i problemi di server anche allora, crash, tutto vero. Però si vedeva che Blizzard ci teneva a risolvere questi problemi, no? Faceva il possibile per risolvere. Adesso se vi devo dire la verità, la sensazione è che manco gliene fregni in più. Non gli interessa neanche questa la sensazione che ho io. Magari sono troppo negativo, troppo pessimista io. È possibile, però vi dico. Io ho già assistito a questi stessi problemi con New World nel 2021, con Lost Ark nel 2022. Rivediamo adesso le stesse cose uguali, identiche. Gli stessi, identici problemi. Nel 2024. E francamente c'è molto menefreghismo. Ecco, poi anche Amazon che pubblica questo messaggio dicendo Ah, non ci aspettavamo così tanti giocatori, stiamo aumentando il numero dei server in Europa. Ma come cazzo facevate non aspettarvi così tanti giocatori? Cioè, è sempre la stessa storia da anni. È sempre la stessa cazzo di storia da anni. Ogni volta dico, non ci aspettavamo tutti questi giocatori. Ma cosa vi aspettavate? Che Tron & Liberty è in assoluto l'MMO più atteso del 2024. Ed è pure free to play. È ovvio che tutti lo provano. Scusate, mi è entrato qualcosa nell'occhio. Mi è entrata una 40-70 nell'occhio. No vabbè, scherzi a parte. È ovvio che ci sarebbe stato un botto di player, no? Cioè, che poi... Io mi sento anche preso in giro, non so voi. Ma a me sembra... Io ho questa perenne sensazione... Cioè, io ho questa sensazione di essere perennemente perculato, no? Da queste multinazionali, da Amazon Games in questo caso. O da Windows, non so voi. Però, francamente, mi sembra voglio di essere preso in giro. Mi sembra che ci stanno prendendo per il culo. Ecco. Poi vedremo come sarà il gioco a settembre. Se riusciranno a risolvere tutti i problemi, come promettono. Spoiler, non succederà. Non credo proprio che succederà. Però, però, vedremo. Io aspetto Metro 2. Ho letto che metteranno la Coop. Non Metro. Chernobyl 2. Stalk 2. Exlin. Guarda, Stalk 2 è molto bello. Esce a settembre. Non mi risulta che mettono la Coop. Guarda, devo darti... Devo darti una brutta notizia. Cioè... Adesso non so se tu hai letto un articolo. Ti chiedo gentilmente di linkare la fonte. Così lo leggiamo insieme. Non mi risulta. Non mi risulta. Stalk 2 Coop. Buonasera, Casu. Buonasera a tutti. No. Questo è un articolo del 2021. Un articolo di tre anni fa. Non lo sapevo tra l'altro. Stalk 2 Multiplayer dice... Stalk 2 Multiplayer PvP in arrivo con un update post lancio. Sì, ragazzi, ma questo è un articolo del 2021 prima che scoppiasse la guerra in Ucraina. Prima che scoppiasse la guerra. È cambiato tutto da quando è scoppiata la guerra nel 2022, purtroppo. È cambiato tutto, purtroppo. E non in meglio. Ahimè. Quindi non mi risulta. Non mi risulta. Comunque vedremo. Purtroppo ad oggi se hai problemi, sei in balia di te stesso. Di sicuro Concord non ha problemi di affluenza di serve. Ah, ho visto. Concord. Meraviglioso, Elio. L'ennesimo live service fallimentare di Sony. Grande, Sony. Ultimamente non ne sta azzeccando una. Brava, Sony. E vabbè. Tra l'altro ricordiamo Concord che non sarà free to play, ma è buy to play venduto al prezzo di 40 euro. 40 euro per quella monnezza di hero shooter. Mamma mia. Veramente incredibile. Incredibile. Quello che stiamo vedendo in questo momento storico. Cioè, sì, in questo momento storico, ragazzi, stiamo vedendo delle cose che una volta non ci saremmo immaginati neanche nei nostri peggiori incubi. Però, ma, vabbè. Allora, che si dice? A me da proprio l'impressione che Amazon si sia buttata sui videogiochi così tanto per, un po' per hobby, in modo superficiale e senza serietà. E sì, è che c'hanno troppi soldi, Stardust. C'hanno troppi soldi. Quindi dicono, ma a noi che cazzo ce ne frega? Cioè, questo è quello che dicono, no? Cioè, che cazzo ne frega? Tanto c'hanno i miliardi. Se le cose vanno bene, bene. Se le cose vanno male, bene uguale. Cioè, questa è la verità di Amazon. Non ci tengono davvero a risolvere i problemi. Perché tanto navigano... Navigano nei soldi, ragazzi. Sì, ma non è stato un lancio ufficiale. Se volevano testare i server e la scalabilità, hanno fatto bene. Sì, sì, hanno anche fatto bene. Per carità, una beta, chi poli, tutto giusto, eh. Io dico solo, tutti questi problemi saranno risolti per il lancio ufficiale a settembre. Io ne dubito fortemente. Poi sarei felice di sbagliarmi, eh. Intendiamoci. Sarei molto, molto felice di sbagliarmi. I server crashano con 40.000-60.000 giocatori connessi, è ridicolo. Sì, ho detto anch'io che non è che abbia fatto i numeri pazzeschi alla fine, eh. Questo Tron & Liberty, cioè, rispetto... Ah, ecco, era qui. Cioè, sì, per carità, sono numeri rispettabili, però non sono i numeri che aveva fatto New World o che aveva fatto lo Star, che avevano letteralmente milioni di giocatori connessi contemporaneamente. Ci sono anche numeri, devo dire, abbastanza bassi, francamente. Devo dire che mi aspettavo di più. Sono sincero. Sarà che forse non sia ancora messa in moto la macchina del marketing. Cioè, di Tron & Liberty al momento non se ne sente parlare tanto. Non ci sono molte pubblicità. Se voi guardate su YouTube, su Twitch, su Reddit, su Internet in generale, su Instagram, non si vede molta pubblicità. Secondo me, per il lancio ufficiale di settembre, per la release globale, secondo me, lì Amazon avrà già messo in moto la macchina del marketing. Un po' come aveva fatto con New World, con lo Stark. Però al momento, devo dire, numeri rispettabili, perché, per carità, sono comunque numeri rispettabili, però non è che abbia fatto il botto. Io pensavo che almeno 100.000 player connessi li avrebbe fatti. E invece, è più di nicchia di quanto pensassi. L'avevo letto sul sito ufficiale, dice Exlin. Guarda, a meno risulta. Poi non so, magari hai ragione tu. Però, ti dico, sicuramente non te l'aspettare per il lancio. La co-op su Stalker 2. Cioè, Stalker 2 esce a settembre. A settembre non ci sarà nessuna modalità co-op. È stato smentito ufficialmente. Poi non so, magari in futuro la metteranno con un aggiornamento. Però, non lo so. Ecco, non mi isulta. Ecco, non mi isulta. Poi, ripeto, se avete una fonte, non c'è problema, linkatela in chat e la leggiamo insieme. Anche perché a me interessa capire. Però, problemi di server a parte per me trovano in liberty un combat imbarazzante. Eh, sì. Però la risposta a questo quesito è semplice. Tralasciando che anche io mi sento sempre perculato, i server hanno dei costi in termini economici e di risorse. Una società dove si tende a massimizzare sempre profitto è normale che non sbloccano all'inizio tutti i server possibili in quanto aumenterebbero i costi ma li sbloccano solo e se l'utenza arriva. Ma, sì, sì, tutto giusto, l'insane, tutto giusto. Però, speriamo che a settembre non si ripetano gli stessi problemi. Perché, comunque, io lo trovo poco serio, ecco, per una multinazionale che ha tutte le risorse e i fondi di Amazon Games. Cioè, noi, la verità è che noi abbiamo passato anni a criticare Blizzard. Blizzard, ah, Blizzard di merda, bastardi, schifosi. Sì, col senno di poi, ragazzi, Blizzard aveva una cura per il consumatore, un'attenzione al cliente che era dieci volte superiore. E questo lo dico per esperienza, perché a me è capitato di avere problemi con Blizzard, così come è capitato ad Askes, così come è capitato un po' a tutti noi. Cazzo, gli mandi un ticket, ti rispondono in due ore. Cioè, quella è l'attenzione al cliente che, secondo me, meriteremmo. Non Amazon che cerca il profitto a tutti i costi. Poi, sì, capisco che sono aziende, sono multinazionali, però loro saranno anche multinazionali e fanno il loro gioco. Noi siamo consumatori e facciamo il nostro gioco. Cioè, anche noi abbiamo degli interessi, soprattutto quando paghi. Adesso mi rendo conto che questa beta è gratis per tutti. Va benissimo. Però a settembre sono i pacchetti a pagamento. Allora, io se pago, lì voglio un servizio di qualità. Ecco, pretendo un servizio di qualità. Comunque. Dal sito ufficiale dice, la modalità multigiocatore arriverà subito dopo la data di uscita come aggiornamento di gioco gratuito. Non so a quando si è aggiornato. Ah, grazie, Stardust, per il link. Vediamo. Sacre 2, Heart of Chernobyl. Dove l'hai trovata questa informazione? Eccola qui. Ah, beh, 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 interessante. Subito dopo la data di uscita? Ok, questo è interessante. Chiamate Asked. Asked mi dice sempre che una delle cose che vorrebbe di più al mondo è una modalità co-op per Stalk. È una cosa che mi ripete da anni. Beh, se lo fanno davvero figata, ragazzi. Io finché non... Sono un po', sono un po' diffidente. Finché non vedo, non credo. Però è interessante, soprattutto è interessante il fatto che dicano subito dopo la data di uscita. Cioè, non è che dicono in futuro, dopo anni e anni arriverà forse un giorno la modalità co-op. No, no, dicono la modalità multigiocatore arriverà subito dopo la data di uscita. Cioè, quindi a breve vuol dire, subito dopo l'uscita, l'uscita a settembre. Quindi, boh, interessante. Interessante. Buonasera Redz, buonasera a tutti. Vorrei ricordare che se Concorde è stato lanciato... No, Concorde è in beta, padre Peggola. C'è stata la beta. Eh, il multiplayer di The Last of Us. Ma lo sai che secondo me, paradossalmente... A me dispiace che sia stato cancellato il multiplayer di The Last of Us. Quello che avrebbe dovuto essere The Last of Us online. Perché secondo me, tra i due, era più interessante quello. E voi dovete pensare, dovete capire, ragazzi, che oggigiorno, nel 2024, non è detto che ciò che viene cancellato sia il gioco peggiore. Purtroppo questa è una cosa che ormai abbiamo imparato. Perché ormai le grandi... appunto, si torna sempre lì, no? Alle multinazionali, a queste grandi aziende, non ne frega niente della qualità. Li ragionano sulla base di ricerche di mercato. E quindi, secondo me, quello che è successo è che Sony ha fatto una ricerca di mercato da cui è emerso che gli iroshooter tirano tanto. Sì, tiravano tanto 5 anni fa, 6 anni fa. Però questa ricerca di mercato è vecchia. È arrivata a Sony questa notizia. E quindi Sony ha messo in cantiere questo nuovo iroshooter. Che ovviamente non è che l'ha messo in cantiere adesso, no? Concorde in sviluppo da 3 anni, 4 anni. Sapete quanto tempo ci vuole oggigiorno per sviluppare un game as a service, no? Un live service AAA. Quindi probabilmente Sony, 3 anni fa, 4 anni fa, ha fatto una ricerca di mercato da cui è emerso che gli iroshooter tiravano molto. E quindi ha sostanzialmente delegato il team Fire Sprite. Mi sembra si chiamano i Fire Sprite. Quelli che adesso, quelli che sono stati messi a sviluppare Concorde. E nel frattempo hanno cancellato The Last of Us Online. Ma io non ho il minimo dubbio che tra i due progetti, quello più interessante era The Last of Us Online. Sarebbe stato The Last of Us Online rispetto a quel liroshooter de merda di Concorde. E' terribile, veramente terrificante Concorde. E quindi secondo me, io sono convinto che non è una questione di qualità. E poi è una questione che i publisher, le grandi aziende oggi, ragionano sulla base di ricerche di mercato. Vecchie di anni. Ricerche di mercato vecchie di anni. E quindi, qual è il risultato? Beh, non push-in è nulla di buono da una roba del genere. Cioè, non push-in è nulla di buono, purtroppo. Hanno fatto la ricerca di mercato con... Esatto, con Explorer, con Microsoft Explorer, Nikaito. Sono arrivati in ritardo di sei anni buoni. Anche di più. Overwatch, il primo, è uscito nel 2016. Otto anni fa. Pensate quanto sono arrivati in ritardo. E tra l'altro, ricordiamo che oggi giorno Overwatch 2 è free-to-play. Che cazzo di senso ha pagare 40 euro per avere un iroshooter più brutto, peggiore di Overwatch. Cioè, piuttosto gioco all'originale, no? Vabbè. Bisogna vedere cosa intendono con Subito. Eh, certo, Star Dust. Vedremo, vedremo. Allora, per quanto riguarda... Diciamo che da Amazon fino a poco tempo fa non ci si aspettava nulla. Da Blizzard ci si aspetta al top da sempre. Eh, però è un problema che... È un problema, Elion, il fatto che da Amazon Games non ci aspettiamo nulla. Cioè, lo capisci che è un problema? Perché questi sono gli sviluppatori di New World. Sono il publisher di Lost Ark. Sono... Scusate, sono appunto il publisher di Tron & Liberty. E in più, nel frattempo, stanno sviluppando un nuovo MMO del Signore degli Anelli. Cioè, è preoccupante il fatto che Amazon abbia in mano tutte queste IP e tutti questi franchise così importanti, così gloriosi. E noi non ci aspettiamo nulla da Amazon perché nove volte su dieci esce la MED. È preoccupante, ragazzi. È veramente una situazione distopica. Distopica. Boh. Vabbè. Sono molto preoccupato. Al di là di tutto, ragazzi, parliamo un po' di Tron & Liberty, il gioco in sé. Allora, devo dire, una cosa positiva, permettetemi di spezzare una lancia a favore del gioco. Io ieri non... Ieri, come sapete, ho avuto problemi a loggare. Ci ho messo circa un'ora e mezza per riuscire a entrare... Per riuscire a loggare sui server. Però, devo dire, una volta che sono riuscito a loggare, poi abbiamo giocato per quattro ore filate, anche quattro ore e mezza, senza avere il minimo problema. Quindi, da quel punto di vista, devo dire, una volta che sono riuscito a entrare, mi è andata bene e sono stato anche fortunato, no? Diciamo, ieri è stato il canto del cigno della scheda video, è la 4070 Super, che poi mi ha già abbandonato. E va bene. Allora, parliamo un po' di Tron & Liberty. Cose negative? Il tutorial è terribile. Il keybinding iniziale è agghiacciante. Cioè, il modo in cui gli sviluppatori hanno pensato alla disposizione dei tasti di default è una roba criminale, da denuncia, veramente da denuncia. Infatti, se provate Tron & Liberty, vi prego, prima cosa, cambiate i keybinding, altrimenti viene da disinstallare il gioco. Infatti, so che lo stesso Stardust ha disinstallato il gioco e non è neanche riuscito a finire il tutorial, no? Come ci raccontava ieri. Io, per fortuna, ho finito il tutorial con grande fatica, con grande sforzo. E poi vi dico, se riuscite a superare questo trauma del tutorial, questo scoglio del tutorial, con questi comandi messi a cazzo, che è veramente traumatico, se riuscite a superare questo scoglio, poi il gioco va migliorando. Perché in realtà, a livello strutturale, Tron & Liberty è un buon MMORPG, secondo me. Parliamone, ragazzi, ovviamente ognuno ha la sua opinione, ci mancherebbe. Però, secondo la mia opinione, a livello strutturale, Tron & Liberty è un buon MMORPG. Cosa intendo quando parlo di livello strutturale? Intendo dire che la base c'è, il gameplay c'è e funziona, le meccaniche ci sono e funzionano, c'è un mondo virtuale enorme, liberamente esplorabile. Sicuramente, tecnicamente, il gioco è fatto molto bene. Mi permetto di spezzare una lancia per dire che graficamente è una bomba. Devo dire, mi ha stupito, è veramente bello a vedersi, sia a livello estetico, a livello visivo e a livello artistico. Sì, si vede che è un MMO coreano, però non è troppo coreano, non è too much. Lo hanno bilanciato bene, stilisticamente è molto più occidentale. Sicuramente molto più occidentale di un Black Desert, per dire, per fare un esempio. E quindi, tutto sommato, devo dire che a livello estetico e stilistico ci sta. A me è piaciuto, a me è piaciuto. Ricordiamo che usa la Unreal Engine 4 ed è ottimizzato veramente da Dio. Cioè, a livello tecnico di ottimizzazione non gli si può dire nulla, perché gira fluidissimo, perfetto, lagga pochissimo, anche con decine e decine di player a schermo. Perché, ricordiamo, Tron & Liberty è un vero MMORPG. Quindi c'è questo mondo virtuale con centinaia di giocatori, no? È possibile incontrare centinaia di giocatori nell'open world. Tra l'altro, open world senza caricamenti, quindi è molto bello con questo, col mondo virtuale che ha questo ciclo giorno-notte, liberamente esplorabile, con le mount, o meglio, più che le mount, gli animali in cui è possibile trasformarsi utilizzando lo shape-shifting. È molto bello, è fatto molto bene da questo punto di vista. Si vede che gli sviluppatori ci hanno lavorato tanto. E qui bisogna fare un plauso. Non tanto ad Amazon Games, che sta facendo un disastro a livello gestionale, però sicuramente bisogna fare un plauso agli sviluppatori di NCSoft, che comunque a livello strutturale hanno costruito un buon MMORPG. Se, ripeto, riuscite a superare lo scoglio dei comandi terrificanti, agghiaccianti. Il combat vi dirò, a me non è dispiaciuto, sono agli inizi, ovvio sono agli inizi, ho provato le prime, ho giocato 4-5 ore, quindi ovviamente sono negli early game, ancora presto puoi esprimere giudizi definitivi. Però a me il combat system non è sembrato terribile. È un tab targeting, ragazzi. Ricordiamo che il gioco comunque nasce, cresce. Insomma, è stato pensato come un tab targeting e anche al lancio sarà un tab targeting. Però hanno reso il combat un po' più fluido, un po' più dinamico, dato che l'anno scorso questo stesso combattimento, questo combat system, aveva ricevuto feedback molto negativi da parte dei giocatori. Perché era molto statico, non potevi muoverti mentre lanciavi le skill. Quindi alla luce di questi feedback negativi, NCSoft ha rivisto il combat system, rendendo possibile ad esempio il casting delle spell in movimento, in generale diminuendo i tempi di CD, di cooldown delle spell. Insomma, è stato reso tutto più veloce, più dinamico e più fluido. È una roba da strapparsi i capelli? No, secondo me no. Non è sicuramente il miglior combat system che abbia mai visto in un MMO. Però secondo me non è brutto, non è fatto male. Certo, vi deve piacere quello stile da combat tab targeting, no? Vi devono piacere gli MMO tab targeting. Bisogna dire che NCSoft ha aggiunto anche la possibilità di usare l'action camera, quindi potete switchare liberamente premendo il tasto V, almeno su computer e V. Dicevo, premendo V potete switchare liberamente tra la camera classica, quindi da MMO tab targeting, e l'action camera, quindi col mirino in centro allo schermo, che voi muovete il mouse e si muove anche il mirino. Si può fare, so che molti giocano usando l'action camera, che la preferiscono, però comunque sappiate che il gioco rimane un MMO tab targeting. In questo è importante chiarire questo punto, ok? Perché io ho visto che c'è un po' di confusione online, ho letto molte persone dire, ah adesso il gioco è diventato un action MMO, quindi un MMORPG con l'action combat. No, il gioco rimane un MMO tab targeting, semplicemente NCSoft ha aggiunto la possibilità di usare l'action camera col mirino per chi si trova meglio. Anche perché ricordiamo che questa beta è disponibile anche su console, con tanto di crossplay abilitato tra PC e console, e quindi il gioco deve essere giocabile e fruibile anche col joypad. E devo dire che ne ho sentito parlare anche bene, forse alla fine va a finire che si gioca persino meglio col joypad che con mouse e tastiera. Quindi ovviamente col joypad viene meglio l'action camera, no? Perché col joypad sei lì che con una levetta muovi la visuale, con l'altra levetta fai tutto quanto, eccetera, eccetera. Quindi sì, da questo punto di vista potete giocarlo con la visuale che preferite, però comunque sappiate che il gioco quello è. Cioè non è che improvvisamente diventa Black Desert con l'action combat, perché non è quella roba lì. Tron & Liberty comunque rimane un MMORPG old school, possiamo dirlo, è abbastanza old school, cioè è abbastanza vecchia scuola, a livello proprio concettuale, a livello filosofico. E ricorda un po' Lineage, poi è diverso ovviamente da Lineage e Lineage 2 perché sono passati vent'anni. Però a livello concettuale ricorda un po' quel tipo di MMO, non a caso è stato sviluppato da NCSoft, no? Nell'ambito videoludico, dato il tempo che ci vuole per far uscire un gioco, dice Stardust, bisogna essere dei visionari e non ci si può basare su ricerche di mercato che diventano vecchie prima ancora dell'uscita del gioco. Esatto Stardust, questa cosa che dici è molto intelligente. Bisognerebbe semplicemente, cioè ormai il tempo di sviluppo di un videogioco AAA è talmente lungo che basarsi sulle mode e sui trend del momento è una follia. Ma questo l'abbiamo visto anche con Ubisoft. Quante volte Ubisoft ha pubblicato dei giochi fuori tempo massimo? Hanno pubblicato un MOBA quando ormai i MOBA non andavano più di moda. Hanno pubblicato un Battle Royale, anzi. Hanno pubblicato tre o quattro Battle Royale quando ormai il treno dei Battle Royale era passato. Hanno pubblicato, hanno inseguito il treno degli NFT quando ormai anche lì la gente stava già odiando gli NFT. Skull & Bones, pensate allo stesso Skull & Bones che è un gioco uscito con dieci anni di ritardo. Ormai non ha più senso sviluppare un gioco AAA sulla base di cerchi di mercato. La cosa più intelligente, la cosa più sensata sarebbe sviluppare un videogioco non sulla base di trend, non sulla base di mode che dopo due anni sono già finite, ma sulla base di concetti che rimangono, idee che permangono. Pensate banalmente a GTA. GTA non invecchia mai. È sempre figo, piace sempre GTA, no? E infatti Rockstar da quel punto di vista cade sempre in piedi Rockstar, no? Cioè non è che pubblico, non è che quando esce GTA 6, GTA 6 è vecchio perché è stato pensato dieci anni fa, perché è un prodotto eterno, cioè è un prodotto che è stato pensato per durare. E non che segui quella moda il cazzo che dopo un anno è già finita, perché è veramente una cosa stupida e mio per sviluppare il gioco sulla base di una moda. Nel momento in cui ci metti sei anni, magari sette anni per sviluppare quel gioco, è ovvio che arrivi in ritardo, non è che ci vuole un genio per capirla sta cosa, no? Però purtroppo tante software house e tanti publisher sono decoccio, cioè proprio non la capiscono, non lo capiscono e stanno perdendo milioni. Guardate anche, ne potrei citare decine di giochi, pensate anche a Suicide Squad Kill the Justice League, che è uscito inizio anno, a febbraio, ed è già un floppone, è già un floppone, già ve lo regalano, se voi avete Amazon Prime ve lo regalano Suicide Squad. Tra l'altro, se avete Amazon Prime, Twitch Prime, abbonatevi al canale, ovviamente, iscrivetevi, ma poi, oltre a quello, riscattate i giochi in regalo, perché in questo momento ci sono un sacco di giochi in regalo con Prime, ho visto che c'è Cotor 2, Star Wars Knights of the Old Republic 2, un grande classico dei GDR, firmato Obsidian, Poi c'è Call of Juarez Bound in Blood, che è un vecchio sparatutto Western che io avevo giocato molto bello, devo dire, è un sparatutto single player di quelli brevi ma intensi, riscattatelo, riscattatelo, eh, Call of Juarez Bound in Blood si chiama, e poi appunto c'è Suicide Squad Kill the Justice League, anche quello ve lo regalano, però capite che Call of Juarez, con tutto il bene che voglio a quel gioco, è un gioco vecchio, di 15 anni fa, mi viene male pensare che sono già passati 15 anni, ma vabbè, lasciamo perdere, è comunque un gioco di 15 anni fa Call of Juarez che ve lo regalano, Suicide Squad è uscito 5 mesi fa, e già ve lo regalano, questo anche per far capire il floppone che è stato Suicide Squad, povera Rocksteady, povera Rocksteady, saranno probabilmente i prossimi a subire un'ondata di licenziamenti, temo, Allora, Stardust, ah, il tutorial poi l'ho fatto, oppure con i loro comandi, pensa te, no, vabbè, folle, i loro comandi Stardust sono folli, anche perché ricordiamo che nel tutorial di Tron & Liberty, il gioco ti dice di premere dei tasti che sulla nostra tastiera europea non esistono, cioè questa è una roba, è una roba incredibile, è mind-blowing, è una di quelle robe che ti fa esplodere il cervello, un MMO che tra l'altro è stato in sviluppo per 10 anni, quindi non si può neanche dire che è stato rusciato, affettato, no, è in sviluppo da 12 anni questo MMO. Su Tron & Liberty, se voi fate il tutorial, se voi giocate l'open beta, durante il tutorial il gioco vi chiede di premere dei tasti che sulla nostra tastiera europea non esistono. Cioè, io vi invito a riflettere su questa cosa. Non so, è una cosa che a me fa esplodere il cervello. Cioè, boh, vabbè, incredibile, è un meme incredibile, ridiamo per non piangere. Dopotutto leggermente rivalutato, non è così malvagio ho superato il muro iniziale, poi funzionasse riserve. Il problema è che ci siamo ridotti da accontentarci di giocare titoli più o meno mediocri solo perché non c'è di meglio. Eh, quella purtroppo è la grande verità, Stardust. Eh, ne abbiamo parlato tante volte con Askez, se considerate che Tron & Liberty, con tutto il rispetto, eh, con tutto il rispetto, però è l'MMO più atteso dell'anno. Boh, vi fa capire come stiamo messi? Poi sì, sono d'accordo con Stardust, è un gioco che comunque va rivalutato perché non è brutto. Cioè, io ho letto anche tanti scrivere, ah, gioco di merda, terribile, MMO disagio. Io rispetto le opinioni di tutti, come sapete, però devo dire che non sono molto d'accordo. Cioè, io personalmente non lo definirei un disagio. Cioè, ragazzi, dai, gli MMO disagio sono altri. Ve li ho portati, ve li ho portati, li ho anche streamati. Potrei citare Tremuriti Online, Tremuritacci, Legends of Varia Classic, Inferno, quelli sono MMO disagio. Tron e Liberty, secondo me, è comunque un prodotto interessante. Ha un sacco di contenuti, un botto di meccaniche. E quindi, quindi sì, io sono a livello 34. Grande, Mr. Knowsbet. Ieri sera non gli avrei dato un euro. Oggi devo dire che è molto, molto figo per diversi motivi. Bene, mi fa molto piacere questa cosa che dici. Anche perché, conferma che non dico cazzate, no? Giocate più indie e meno colossali. Il mercato andrà anche un po' in questa direzione. Bravo, l'insane. Sante parole. Sempre giusto spendere un po' di... Come dire... Sempre giusto dedicare un po' del proprio tempo agli indie. Io quando posso lo faccio sempre. Purtroppo tempo libero non è tanto in questo periodo. Però è sempre cosa buona e giusta. Io questo lo dico sempre. Se non c'è nulla che vi soddisfi. Soprattutto nell'industria mainstream. Quella dei videogiochi AAA. Ragazzi, informatevi. Fate un po' di ricerca perché... Ci sono un sacco di indie di qualità. Viviamo in un... Guardando... Viviamo in un... Scusate. Viviamo in un periodo storico in cui... È vero che ci sono tanti problemi. È vero che escono tanti videogiochi deludenti. È vero che escono tanti AAA e MEDA. Però è anche vero che in questo periodo storico... Non ci sono mai stati così tanti indie di qualità. Cioè veramente negli ultimi anni sono usciti degli indie... Dei giochi indie che sono dei capolavori. Ragazzi. Poi ci sono persone più ferrate di me. Per parlare di indie. Però vi assicuro che... Che di roba ce n'è. Anche Baldur's Gate e Nance Edition regalano su Prime. Ottimo. Tanta roba. Poi andate anche quello. Grazie a Elion per la segnalazione. Buona seasi e Manuz. Benvenuto. Ora non riesco a loggare. Eh, purtroppo. Ripa i save. Vedremo, vedremo. Comunque. Allora, attenzione. C'è una segnalazione breaking news. Mi è arrivata giusto adesso in redazione. Segnalazione di Atrof, un nostro utente. Il quale ci dice... Per chi interessa, adesso si può scaricare su PS5. Quindi, se Dio vuole... Dopo un giorno di problemi, Amazon Games è finalmente riuscita a risolvere questo bug per cui non si poteva scaricare il gioco sul PlayStation Store. Provate... Quindi, se siete giocatori console, se siete utenti PS5, provate adesso. Provate adesso ad andare sul PlayStation Store e vedete se... Vedete se ve lo fa scaricare perché dovrebbero aver risolto il problema. Vi lascio il link. Ecco, poi ci sarebbe un altro discorso da fare. Allora, bevo perché qua è un'ora che parlo, quindi bevo. Dicevo, oltre a questo, dovremmo parlare... Qual è la cosa che mi preoccupa di più di questo gioco? La gestione dei save? No, perché tutto sommato... Tutto sommato li isolveranno. La cosa che mi preoccupa di più è... E la monetizzazione, soprattutto all'endgame, ragazzi. Soprattutto all'endgame. Anche perché... Io ho letto molti... Parla è pay to win, non è pay to win. Sì, lo è, no, non lo è. È pay to progress, no, sì, no, eccetera. È un discorso controverso. È una questione molto complicata. È una questione molto complicata perché Amazon Games ed NCSoft hanno volutamente complicato le acque. Hanno reso la questione fumosa. Ci sono... Ci sono un sacco di valute. È un casino capire cosa fa cosa. È veramente un delirio. Bisogna avere una laurea per capire certe cose. Però, però, quello che possiamo dire, sicuramente, è che, poco ma sicuro, Tron & Liberty è un MMO. Sarà un MMO monetizzato pesantemente. Sarà molto monetizzato. E questo l'abbiamo già visto a partire dalla vendita di questi pacchetti. Giusto ieri Amazon ha presentato questi pacchetti chiamati Early Access Pack che permetteranno di iniziare a giocare con 5 giorni di accesso anticipato al lancio ufficiale di Tron & Liberty. Quindi, in pratica, permetteranno di iniziare a giocare il 12 settembre invece che il 17 settembre. Questi pacchetti sono divisi in tre edizioni. Cioè, standard pack, pack deluxe e pack ultimate. Al prezzo rispettivamente di 39,99€, 69,98€ e 99,97€. Quindi, di fatto, pacchetto standard 40€, pacchetto deluxe 70€ e il pacchetto ultimate 100€. Allora, questo già, questo già devo dire che è una cosa che un po' mi preoccupa perché sono prezzi molto più alti rispetto a quelli di Lost Ark. Vi ricordate quando due anni fa, come dicevo, era uscito Lost Ark, il gioco era free to play, anche in quel caso il gioco era free to play e anche in quel caso potevi acquistare dei pacchetti che davano 3 giorni di accesso anticipato, mi sembra. Solo che costavano, questi pacchetti costavano tipo 20€, 25€, 30€ che erano prezzi molto onesti, tant'è che mi ricordo che io avevo acquistato in silver. Quindi avevo anche speso un 30€, però li avevo spesi volentieri. Qui il pacchetto più economico costa 40€, poi addirittura 70€ e 100€. Allora, già sono dei prezzi che io, devo dire, non condivido. Il problema è che non è questo il problema, nel senso, se il problema fosse tutto qui, dici vabbè, sono dei pacchetti per chi vuole iniziare a giocare 5 giorni prima, non li compri e sti cazzi. Sì, il problema è che questa non è la cosa più preoccupante, la cosa più preoccupante riguarda proprio il sistema di monetizzazione del gioco. E mi riferisco alla questione dei Lucent, mi riferisco alla questione su cui abbiamo pubblicato un articolo giusto ieri relativo al sistema di monetizzazione, eccolo qui. Nel frattempo permettetemi di ringraziare Arvendierita, che si è abbonato con Prime, grandissimo, vero massivo postumano, grazie mille di cuore. Arvendierita, come stai? Che si dice? Dicevamo, dicevo, la cosa più preoccupante, allora, anzitutto, in Tronell Liberty sono presenti tre valute principali, che sono i Lucent, i Solant e gli Ornamental Coin. Se volete maggiori dettagli vi rimando all'articolo, vi linko in chat l'articolo che abbiamo pubblicato. Allora, premessa, io sono soltanto all'inizio del gioco, ok? Quindi non è che posso recensire Tronell Liberty sulla base di una prova di quattro ore, poi quello ovviamente ci vorrà più tempo, dovremmo vedere quando uscirà ufficialmente, bisognerà arrivare all'endgame, ok? E' questo il punto, bisognerà arrivare all'endgame. Il problema qual è? Il problema è che io ho letto diverse cose preoccupanti, ce ne parlava lo stesso Captor ieri, se avete seguito la live, lo streaming maratona di ieri, ad un certo punto in chat è arrivato il buon Captor, un nostro amico, il quale ha spiegato, ha detto, Plinio, sei visto che hanno detto questo, hanno detto quello? Non so, c'è scritto un po' di cose. Da questo, sostanzialmente quello che è emesso è che i Lucent, che di fatto è una di queste valute, i Lucent che rappresentano una delle valute del gioco, i Lucent potranno essere usati per acquistare oggetti all'action house, alla casa d'aste, quindi anche armi immature. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che uno usa i soldi reali, cioè uno, con gli euro, con gli euro acquisti Lucent, con i Lucent ti puoi acquistare, puoi shoppare l'equip all'action house. Poi è vero che, è una questione complicata, dicevano che comunque se acquisti l'equip all'action house, non è, diciamo, non è l'equip finale, perché poi comunque l'equip va modificato, vanno aggiunti dei potenziamenti, va inciantato, quindi quelle cose non le puoi acquistare all'asta. Quindi sostanzialmente è vero che non basta acquistare soltanto armi immature all'action house per avere i best in slot, però è una grossa mano, è una grossa mano, ecco. Insomma, la questione è complicata, attenzione, la questione è resa volutamente complicata da Amazon e da NCSoft, però sono preoccupato, questo non lo nascondo. E' anche vero che se metto all'asta oggetti di gioco guadagno luce. Sì, sì, ma quello va bene Covenant, però il discorso è, e Pay to Win? Ragazzi, poi dipende sempre da cosa intende ognuno di voi con Pay to Win, esattamente. Che cosa si intende con Pay to Win? Perché alla fine ognuno intende un po' una cosa diversa, però per me, cioè io rimango sull'origine etimologica del termine, cioè analizziamo il termine, Pay to Win, vuol dire pagare per vincere, vuol dire che io posso pagare dei soldi reali per vincere, tra virgolette, cioè per averne un vantaggio competitivo. Ora, il Pay to Win di fatto non esiste se parliamo di un gioco non PvP, cioè se parliamo di un gioco solo cooperativo, il Pay to Win, diciamo che è molto, è molto secondario, cioè se parliamo di un gioco cooperativo, vuoi spendere 100€ per diventare più forte, che cazzo me ne frega, fallo, no? non è comunque il massimo, però non è che mi rovina il mio gioco, no? Cioè puoi fare un po' quello che vuoi. Un gioco PvP, la questione del Pay to Win è molto più gravosa, capite? E il problema è che Tron & Liberty è un gioco estremamente PvP, perché è inutile che stiamo qui a GRC attorno, l'endgame, all'endgame, Tron & Liberty è un gioco PvP, cioè il focus, di Tron & Liberty, all'endgame, è tutto sul PvP, sugli scontri tra gilde, su questi assedi, sono gli assedi dei castelli, eccetera eccetera, però questa cosa è problematica, molto problematica, per un MMO free to play, con questa monetizzazione, quindi se mi chiedete come la penso, io francamente sono preoccupato, poi non ho la sfea di cristallo, magari da qui al lancio Amazon Games annuncia che faranno dei miglioramenti al sistema di monetizzazione, non lo so, tutto è possibile, però certo è che al momento, per quelle che sono le informazioni in nostro possesso in questo momento, la situazione secondo me è abbastanza preoccupante, lato monetizzazione, poi il gioco come detto sembra anche figo, cioè se parliamo a livello strutturale, ripeto, questo lo voglio ripetere, Tron & Liberty secondo me è un buon MMORPG, a livello strutturale, è di progression, però se parliamo a livello di monetizzazione, secondo me il rischio c'è, il rischio c'è, e ho letto anche molti giocatori che hanno giocato la versione coreana, che dicono sì, effettivamente è pay to win, cioè inutile gerci attorno, poi è un bel gioco, però all'endgame è pay to win, comunque, Tutto ok, sembra un bel modo per esprimere soldi in sto gioco free to play, eh beh sicuramente a vendi, e come dicevo prima, è un MMO monetizzato pesantemente, NCSoft ed Amazon non lavorano per la gloria, e non lavorano per i soldi ragazzi, come tutte le grandi multinazionali, purtroppo, e pay to win, dice Covenant, ma i furbi possono tranquillamente avvantaggiarsi del sistema, senza spendere, o comunque spendendo poco, quello va bene, quello, nessuno lo mette in dubbio, è un gioco pay to win, conferma anche Stardust, sapientemente mascherato da free to play, pagandosi ottiene un vantaggio significativo su chi non paga, eh, è un problema ragazzi, poi sì, sono d'accordo che se uno gioca in maniera intelligente, può avvantaggiarsi senza spendere grosse cifre, sono d'accordo, però intanto diciamo che pay to win, cioè, siamo arrivati qui, abbiamo trovato un consensus, no? Di ad Askezo che tre ore che lo aspetto, che dobbiamo andare in corso regina, ecco, stava ad interchange, sta ad interchange, caro coiote, il buon Askezo, il buon Askezo è una settimana che non lo vede nessuno, è una settimana che scappa da Tarkov, che poi a me fa ridere, dici, scappo da Tarkov una volta, scappo da Tarkov due volte, scappo da Tarkov tre volte, sì, ma quante cazzo di volte vuoi scappare da Tarkov? Cioè scappi una volta, no? Come dire, io scappo da Torino, quante volte devo scappare da Torino? Una volta, no, invece Askezo tutte le sere scappa da Tarkov, e vabbè, gli vogliamo bene ad Askezo, una sera ce lo deve anche, una sera ce lo deve streamare, caro Askezo, ce lo devi streamare, Escape from Tarkov, se ci senti, dacci un segno, vogliamo vederli questi streaming di Tarkov, più E.C.O.P. Comunque, tornando a noi, è lo stesso errore che venne fatto per Diablo 3, la centricità del gioco divenne l'action house stessa, con la corsa a vendere qualsiasi oggetto per soldi, mandando a benedire l'equilibrio del loot, e probabilmente se l'ha inchiuso, farci rimettere soldi a Blizzard stessa, sì, quello che dici è assolutamente giusto, XLV, l'infame, il fantomatico RMA, la Real Money Action House di Diablo 3, cioè la casa d'aste con soldi reali, però ricordiamo che Diablo 3 è un gioco PvE, perché bene o male tutti i Diablo sono sempre stati giochi PvE, anche se volendo uno potrebbe mettersi a fare i duelli in arena, PvP, tanto le hanno poi messe le arena su Diablo 3, non credo, non credo, mi ricordo che le avevano cancellate, quindi comunque, cioè i Diablo sono al 99% giochi PvE, capite che qua è più pesante, perché Tron & Liberty, ripeto, l'endgame si basa sul PvP, come i tempi Lineage, no, è solo che è un problema, è un problema, è lo stesso, scusate, è lo stesso, ah sì no, già letto, già letto, io che volevo provarlo a sto punto neanche lo scarico, ma guarda Kill, io ti consiglio comunque di provarlo, provatelo ragazzi, perché ripeto, è un buon MMORPG con tante meccaniche interessanti, però l'endgame purtroppo è problematico, è problematico ragazzi, è inutile che stiamo qui a Giacettono, la monetizzazione è problematica, io ricordo che ieri c'erano degli utenti che mi criticavano, uno in particolare diceva, Plinius fai terrorismo psicologico, come ti permetti a dire che pay to win, dici falsità, è tutto falso, stai dicendo il falso, il tempo mi ha dato ragione ragazzi, nel senso che, ma queste cose non le dico io, ci sono giocatori che hanno giocato per mesi alla versione coreana, che dicono, il gioco è molto bello, mi sono divertito tanto a giocarci, però è pay to win, non prendiamoci in giro, non prendiamoci per il culo, e questo lo dicono giocatori che hanno giocato per mesi alla versione coreana, il problema è che comunque Amazon ha confermato che non ci saranno cambiamenti alla monetizzazione rispetto alla versione coreana, non ci saranno modifiche sostanziali alla monetizzazione di Tron & Liberty rispetto alla versione coreana, questo l'ha detto Amazon, non lo dico io, e quindi fate 2 più 2 ragazzi, e capite che il problema si pone, buonasera Richard Diamonds, buonasera, benvenuto, si, si, ragazzi, purtroppo, purtroppo e mai, sembra che, sembra che quei pochi MMO che escono, sono così, si, in senso ragazzi, io vorrei tanto potervi dare un'altra risposta, però non è che possiamo dirci il falso, è così, è così, ragazzi, purtroppo questo è, purtroppo questo è, ah, il pwe, talco pwe costa 20, si compra con 20 euro, figo, buonasera Erco Khan, e stavamo parlando di Tron & Liberty, che è bello, divertente, tutto quello che vuoi, però all'end game, è pay to win, cioè, inutile che ci stiamo tanto qua, già a un certo anno, comunque, se puoi giocare al market, comprare e vendere, puoi fare l'usent anche senza spendere, ok, ok, ma non è quello il punto, cioè, pay to win vuol dire che, chi paga soldi reali, ottiene un vantaggio competitivo, rispetto ad altri player, poi, il fatto che ci siano dei player, che possono arrivare gli stessi risultati, giocando il gioco in maniera intelligente, senza spendere soldi, va bene, va benissimo, però rimane il fatto che è pay to win, perché se un player, una whale, chiamatela come volete, se una whale, o comunque un utente, può spendere, che ne so, 100 euro, quanto è, e ottenere un vantaggio competitivo, è inutile che stiamo qui, leggerci attorno, è pay to win, ok, cioè, quello è il punto, comunque, vabbè, ok, abbiamo purato che è pay to win, va bene, siamo d'accordo, come, siamo d'accordo, no, i server sono aperti a vendere, non posso giocare, perché purtroppo non ho, non mi funziona la scheda video, purtroppo, la mia RTX 4070 Super, ha deciso di abbandonarmi, dopo lo streaming maratona di ieri, proprio lei, questa stronza qui, maledetta, bastarda, adesso la spacco, maledetta, maledetta, e quindi niente, dovrò mandarla indietro, all'assistenza clienti, eccetera, 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 sinceramente, per quel poco che ho visto, Trojan Liberty, mi sembra abbastanza ghiacciante, fatto per bimbi minchia, che vogliono tutto il subito, questo non, questo non saprei, questo non saprei, buonasera Redaction, si ragazzi, non ne voglio riparlare, però si, non funziona, non funziona, mi hanno, da torno mi hanno rimandato la stessa Redaction, si l'ho già mandata indietro, me l'hanno rimandata, io l'ho montata, ieri vi ho streamato Trojan Liberty, poi stamattina mi sono svegliato, il computer non funzionava, immaginatevi con quante bestemmie, ma ero sicuro che sarebbe stata un'inculata, perché non me ne hanno, non me ne hanno mandata indietro, una nuova, mi hanno riparato, hanno detto di aver riparato, quella che gli avevo mandato, e me l'hanno rimandata, che ovviamente non è vero un cazzo, mi hanno rimandato la scheda video, che non funzionava, ma era ovvio, era ovvio, era ovvio ragazzi miei, non era quella che aveva avuto dopo il reso della prima, sì, nel senso che io ho già questa scheda video, l'ho rimandata indietro, sono stato un mese senza scheda video, mi è tornata, ma non è cambiato un cazzo ragazzi, quindi adesso, certo, esatto, esatto, l'abbiamo riparata, tra virgolette, esatto, esatto, ragazzi, cosa volete che vi dica, mi dispiace molto, perché avrei voluto streamare, portarvi, avrei voluto portarvi, la beta di Tron & Liberty, avrei voluto continuarla, avrei voluto continuarla, quindi mi spiace molto, però, eh sì sì, mi hanno mandato la stessa scheda, la stessa scheda, Red, adesso, qualcuno ha detto bestemmie, esatto, blasfemo seriale, ti ho invocato, ma ho invocato anche, anche sì, in questi giorni, o l'ho evocato molto, l'ho evocato, ho invocato il suo nome, ho invocato molto il suo nome, in questi giorni, vabbè ragazzi, comunque, cosa volete che vi dica, cercherò di risolvere il problema, alla peggio, alla peggio, alla peggio vado lì con una pistola, come in The Movies, l'avete visto il film che ha fatto Askez, su The Movies, no, Plinius che si fa vendetta da solo, contro il signor Nvidia, vedremo, vedremo, Teso non ti avrebbe bruciato la scheda grafica, non è un problema che, cioè, era già fallata, Vendi, non è Tron & Liberty che me l'ha bruciata, era già fallata, dalla prima volta che l'ho messa, purtroppo è una scheda video, deve avere un pin difettoso, o qualcosa di difettoso, per cui sostanzialmente, scusate, perde il segnale dei monitor, cioè i monitor si spengono, mentre ho quella scheda video, però sono sicuro che i monitor funzionano, perché io ho due monitor, nuovi, con cavi nuovi, testato tutto, ed è solo la scheda video che non funziona, quindi, boh, vabbè, vabbè, vedremo, vedremo, la garanzia legale in questi casi non ti permette di scegliere se chiedere nuovamente la riparazione oppure la sostituzione? è un discorso complesso Richard, io ovviamente potendo scegliere gli ho chiesto di ridarmi i soldi, o di mandarmene una nuova, il problema è che, allora, è vero che non sono, io questa scheda video l'ho comprata tipo due mesi fa, quindi, se parliamo dei due anni di garanzia dell'Unione Europea, sono dentro i due anni di garanzia dell'Unione Europea, però sapete che se acquisti qualcosa su Amazon, hai un mese, per chiedere la garanzia, per avere la garanzia totale, cioè se tu fai il reso di un prodotto entro un mese, hai la garanzia totale, al 100%, cioè vuol dire che poi ti ridanno i soldi, o ti mandano una nuova scheda video, purtroppo io ci ho messo un po' per identificare qual è il problema, perché all'improvviso a me ha smesso di funzionare il computer, ci siamo messi a fare tutti i test con Askez, abbiamo provato la scheda madre, scusate, abbiamo provato la scheda madre, non è alla scheda madre, abbiamo provato le RAM, non è alle RAM, abbiamo provato l'alimentatore, non è all'alimentatore, abbiamo provato i monitor, non è a noi monitor, alla fine abbiamo capito che è alla scheda video, però fai, prova questo, prova quello, eccetera, eccetera, alla fine è passato più di un mese, e quindi purtroppo, ripeto, è vero che io sono sempre all'interno dei due anni di garanzia dell'Unione Europea, però la scheda video non è più compresa all'interno di quella garanzia totale che ti garantisce Amazon entro un mese dall'acquisto, perché purtroppo è passato un mese e cinque giorni, e anche lì, quante bestemmie vogliamo tirare per quei cinque giorni che sono passati, tante, ah ecco, quattordici giorni dice testa, vabbè, comunque non cambia ragazzi, sì esatto, la scheda video è stata sabotata, comunque non cambia il discorso, quindici giorni, un mese, rimane il fatto che per pochi giorni purtroppo, la mia scheda video non è compresa nella garanzia totale di Amazon, ok, quindi sì, gliela posso rimandare indietro, però non mi danno i soldi, sostanzialmente, semplicemente loro la riparano, tra virgolette, e me la rimandano, che è quello che è successo, funziona? no, che bello, che bello, che bello, che bello, comunque, comunque, sono d'accordo sul discorso che facevi, Tron & Liberty purtroppo è pay to win, arrivi all'endgame e niente, se shoppi non hai problemi, se non shoppi ti perdi nelle meccaniche della disperazione per raggiungere chi shoppa con un click, salvo botte di fortuna da parte di chi scura in drop e in enchant, sì, ma ieri il buon captor mi diceva, che purtroppo il solo found in Tron & Liberty è quasi inesistente, il self found, come si chiama, cioè il fatto che tu puoi droppare un oggetto endgame, un'arma o un'armatura best in slot, sono probabilità bassissime, io non lo so, non sono ancora arrivato all'endgame, però captor ha giocato all'endgame e mi diceva questa cosa, sì, l'ho comprata su Amazon, Certo, certo, io su Amazon ho chiesto il reso poco prima dello scadere dei due anni, segnalando il problema, ho chiesto sempre il reso, mi hanno sempre imbossato tutto per funzionamento entro i due anni, non so cosa dire ragazzi, vedrò, vedrò, il problema è l'ho acquistata da un venditore, era un venditore su Amazon, cioè io la scheda video l'ho acquistata su Amazon, però non era, non è direttamente di Amazon, l'ho acquistata tramite Amazon da un venditore su Amazon, che era un venditore che aveva ottime recensioni, ottimi feedback, adesso glielo lascio io un feedback positivo, sì sì, come no, gli lascio 5 stelle di feedback positivo, col cazzo, vabbè, dicevamo, vedremo, vedremo, ragazzi, proverò, proverò, vi ringrazio per l'interessamento, proverò, allora ti attacchi al cavolo, grazie, me ne ho già accolto testa, me ne ho già accolto, grazie per l'informazione, me ne ero già accolto, ogni bene venduto da Amazon ha un acquirente consumatore, ivi inclusi i beni con elementi digitali, assistito dalla garanzia legale sui beni di consumo, che copre i difetti di conformità esistenti al momento della consegna del bene, che si manifestano entro 24 mesi alla data di consegna del bene, da Amazon garanzia legale, ti ringrazio, stai d'asta, eh no, però fermo testa, io comunque l'ho comprato su Amazon, la scheda, nel senso, se volete vi recupero anche la schermata, io l'ho comprata su Amazon, non è che l'ho comprata sul sito Vatte la Pesca, quindi, quindi comunque passa, è anche responsabilità di Amazon, se mi arriva qualcosa che non funziona, allora, aspettate un attimo, vi trovo la pagina, che poi io non volevo neanche parlarne, però ho dato che ogni volta mi chiedete aggiornamenti, aggiornamenti Plinius, aggiornamenti che ti è sulla scheda video, che ti è successo, eccetera, eccetera, questa qua, questa qua, io l'avevo comprata ad aprile, e, è bom, ecco, non importa Amazon, se rivale sul venditore, se esso non ti risolve il problema, Amazon subentra, ma infatti Redaction, magari, forse adesso c'è uno spiraglio, forse adesso c'è uno spiraglio, perché io a questo punto, lunedì, adesso è il weekend, sono tutti chiusi, va bene, lunedì mattina, io scrivo una mail ad Amazon, e dico, il venditore non mi ha risolto il problema, mi ha rimandato la scheda video difettosa, e in tutto ciò, oppure perso un mese ad aspettare, perché se permettete, anche il tempo conta, e conta più dei soldi, a quel punto, magari, davvero, subentra Amazon, è possibile, c'è uno spiraglio, forse si intravede la luce in fondo al tunnel, ragazzi, una speranza, una pallida speranza, all'orizzonte, e speriamo, speriamo, sì, l'ho già, l'ho già mandato a testa, sì sì, è stato un mese, infatti, io sono stato un mese senza 40-70, ragazzi, se vi ricordate, vi ricordate, la scorsa settimana, che io avrei, avrei dovuto, e voluto, streamarvi la beta di The Queenfall, ma poi, lo streaming l'ha fatto Askezo, perché io, ero senza scheda video, quindi sì, io ho già un mese, che sono senza scheda video, perché gliel'ho rispedita, e me l'hanno rimandata, giusto ieri, io ieri l'ho montata, vi ho streammato la beta di Tron & Liberty, e da stamattina, ha deciso, basta così, e mi ha abbandonato, quindi sì, eh, l'avevo pagata 700 euro, più o meno, qui, quant'è che qua? L'avevo pagata 700 euro, me coglioni, so soldi ragazzi, eh, so soldi, so comunque soldi, detto ciò, hai parlato col venditore, con l'assistenza Amazon, entrambi Elion, sono in contatto con entrambi, però adesso, mi sentiranno, adesso mi sentiranno, sì, ma infatti, se lo richiedi, interviene direttamente Amazon, tanto più, che da quella pagina, leggo spedito da Amazon, adesso questo non lo so, però, però vediamo, vediamo Red, comunque in qualche modo, mi è capitato un problema simile, per un altro prodotto, l'operatore mi ha spiegato, in breve, che se fosse un prodotto venduto a loro, non c'erano problemi a rimborsare o sostituire, eh, lo so, cazzo, purtroppo, purtroppo raga, nella sfiga, mi è andata ancora più di sfiga, perché quando io volevo comprare la scheda video, Amazon non la vendeva direttamente, cioè, c'era soltanto tramite venditore esterno, sempre su Amazon, ma tramite venditore esterno, e quindi io l'ho comprata, ho detto, ma sì, dai, tanto cosa vuoi che succeda, no? 99 persone su 100, la scheda funziona perfettamente, eh, io ho beccato l'unica fallata, eh, col senno di poi, sono bravi tutti, ragazzi, però, che cazzo ne sapevo, cioè, sì, 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 io ti consiglio di parlare direttamente nella chat, con il servizio di assistenza, ti risolvono tutto in chat, ma adesso proverò, ragazzi, ci proverò, ci proverò, ragazzi, datemi un attimo che prendo un fazzoletto, grazie. Grazie. Ecco, scusate, deve piangere, sì, sono andato a piangere in un angolino, ecco, comunque, comunque, ragazzi miei, tu prova a martellare il servizio clienti sul fatto che è un problema che avevi da ben prima della scadenza del tempo limite del reso, magari trovi l'anima pia o l'operatore disperato di non sentirti più, certo, lo farò XLV, lo farò, ma guardate, a me tutto mi si può dire, ma, sono testato, cioè, quando, cioè, non sono uno che molla, ecco, soprattutto dopo avevo speso 700 euro, eh, cazzo, gli avessi pagata 15 euro, dico, ok, 700 euro, col cavolo che gli avevo vinta, ormai è una battaglia, ormai è una questione di principio, vabbè, dai, direi che ti abbiamo fatto soffrire abbastanza parlando di questa scheda di video, tanto sicuramente sai cosa fai, hai già fatto ciò che dovevi e potevi, certo, insisti che è un difetto di fabbrica, sì, sì, testa, sono, sono d'accordo, sono d'accordo, difetto di fabbrica, no, vi ringrazio ragazzi, del fatto che mi state sempre così, così vicino, no, che mi supportate, mi chiedete, mi chiedete aggiornamenti, insomma, vi ringrazio, ecco, non, non, non mi fate sentire solo, ecco, e di questo, vi sono, vi sono grato, però parliamo di cose un po' meno pesanti, tra un libro e te abbiamo detto ragazzi, torneremo a parlarne molto presto, l'open beta 2 fino a martedì, e, dopodiché il gioco uscirà, esce ufficialmente tra due, tra due mesi, ricordiamo che, il titolo uscirà ufficialmente il 17 settembre 2024, sarà free to play, su pc via steam, ps5, xbox, x ed s, ma, come dicevo, ieri Amazon Games ha annunciato anche questi pacchetti di accesso anticipato, che permettono di, permetteranno di accedere al gioco con 5 giorni di anticipo, quindi, di fatto, per chi shoppa, cioè, per chi acquisterà il gioco, il vero day one, non sarà il 17 settembre, ma sarà 5 giorni prima, cioè, il 12 settembre, che manca farlo apposta il mio compleanno, quindi niente, ecco, lo comprerete? Sarete tra gli utenti che acquisteranno un pacchetto in early access per iniziare a giocare il 12 settembre, o semplicemente aspetterete l'uscita free to play del 17 per scaricarlo e provarlo come tutti? io vi dico la verità, non ho ancora deciso, sono, sono indeciso, sono indeciso perché, non lo so, vedremo, anche perché, l'ho già preordinato, sicuramente, non lo so, vi dico la verità, io avrei preferito che uscisse il 17 e basta, perché è una data, è una data molto più, molto migliore, il 12, come detto, è il mio compleanno, ma il problema non è tanto quello, il problema è che io so già che quel weekend non sono a Torino, perché io nel weekend del 13-14 settembre, quel weekend lì, so già che sarò, se non sbaglio, in Lombardia, no, in Lombardia, se mi sembra in Lombardia, per un evento, la beta finisce a Marte di testa, è il 23 luglio, che è Marte di, dicevo, io proprio quel weekend lì, sarò, non sarò in città, non sarò a Torino, e quindi, non è il massimo, il fatto che esca il 12 settembre, però è anche vero che se vogliamo fare i numeroni su Twitch, bisogna, ovviamente il gioco va streamato al day one, perché, se no, lo sapete, o è mai, oggigiorno, quanto è frenetica la comunicazione online, se porti un gioco, tre giorni dopo che è uscito, l'han già visto tutti, e l'interesse è già calato, purtroppo, no, non è un evento pubblico, sta è dusted, no, sono stato invitato, non so se lo posso dire, quindi nel dubbio, per il momento non lo dico, poi in caso, ve ne parlerò, ve ne parlerò, comunque, non vi preoccupate, non è niente di assurdo, però è un evento stampa, prima di salutarci, come detto, volevo parlare anche un po' di, di Diablo 4, evviva, allora avete visto, che hanno, Blizzard ha presentato, la nuova classe, in arrivo, con la prima espansione a pagamento, Vessel of Hatred, questa nuova classe, è lo spiritista, lo spirit bone, che è una classe, collegata, alla, alla giungla, di Nantu, in cui è ambientato, in cui è ambientata, l'espansione, ricordiamo che l'espansione, uscirà a ottobre, l'otto ottobre, quindi, sarà un periodo molto pieno, quello, a settembre, barra ottobre, sarà, sarà un autunno molto pieno, ieri, gli sviluppatori di Blizzard, hanno fatto una, una live, in diretta su YouTube, molto lunga, un'ora e mezza di live, addirittura, che adesso, ovviamente, non, non riguardiamo tutta, perché un'ora e mezza di live, ciao, ne, l'avrei seguita, volentieri in diretta, però, ieri, eravamo impegnati, con la maratona, dedicata a Tron & Liberty, non si poteva, non si poteva, rinunciare, però, vediamo un po', diciamo, i dettagli principali, di questa, di questa classe, era, perché hai detto Lombardia, se fosse stato pubblico, magari avrei potuto incontrarti, sì, sì, lo so, che anche tu sei in Lombardia, Stardust, fammi controllare, ti dico subito, sei in Lombardia, no, scusa, mi sono sbagliato, questo evento, questo evento, è vicino a Piacenza, quindi Emilia Romagna, scusate, ricordavo male, ultimamente c'è un sacco di eventi, vai qui, vai lì, sto, sto un po' nel pallone, però è Emilia Romagna, questo evento, che si terrà in quel weekend lì, vabbè, ragazzi, di quello ne parleremo molto presto, dicevo, tornando a Diablo 4, Veste Elevate, tra il so che molti speravano che la prima classe fosse il paladino, no, il crociato, e invece, come giusto, invece, è lo spiritista, cosa che già era stata confermata da molti leak che erano usciti l'anno scorso, e che poi, costando di poi, sono rivelati dei leak veritieri, perché effettivamente, lo spirit bone è la, questa classe, allora io direi, anzitutto, vediamoci il trailer, leggiamo un po' i dettagli, anche qui, news pubblicata al buon Vincenzo, grande Vincenzo, il nostro segnore editor, e che ringraziamo, allora, che cos'è lo spiritista? Gli spiritisti sono guerrieri versatili, che uniscono attacchi devastanti in combinazioni da tre colpi con la fluidità acrobatica, dando dimostrazione di una possente ferocia. Sono maestri nel corpo a corpo, e dispensano letalità a breve distanza, grazie alla loro capacità di aumentare la propria ferocia, con l'aiuto dell'energia spirituale, ed è il loro strumento preferito per trucidare i demoni, cioè la guisarma. Se vi chiedete che cazzo è la guisarma, ammetto che l'ho pensato anch'io, la guisarma sarebbe la traduzione in italiano del Quiet Stuff, che è appunto questa, è una lancia di fatto, è una specie, è una labarda, una lancia, e se cercate su Google, devo dire, guisarma è interessante perché escono risultati che hanno a che fare con World of Warcraft, perché alla fine G.O.I.G.A. si torna sempre lì su World of Warcraft, ma anche, ma anche Metin 2, ecco, quindi diciamo che su Metin 2 c'era la guisarma, ecco, per restare sempre in ambito MMO. Bene, tornando a noi, quindi la guisarma, questa specie di alabarda, questa lancia lunga, combatte con questa arma lunga, ed evoca gli spiriti, no? Questo spiritista, come dice il nome stesso, è un po' un mix tra lo sciamano e il witch doctor di Diablo 3, o il monk, è un po' un mix tra lo sciamano, perché lo sciamano è il witch doctor in italiano, vabbè, mi sono confuso, volevo dire, è un misto tra il monk, quindi il monaco, e lo sciamano di Diablo 3. Lo spiritista porta con sé anche una nuova categoria di abilità, chiamata incarnazione, equipaggiandola, lo spiritista incarna i tratti del guardiano associato all'abilità di incarnazione, che fornisce un beneficio passivo e attacchi diversi, cioè sostanzialmente, questo spiritista può scegliere uno spirito a cui associarsi, ed è possibile scegliere tra quattro spiriti, un po' come poteva fare anche il druido, infatti molti hanno criticato questa nuova classe dicendo che è un druido palestrato, che mi ha fatto morire come cosa, perché avete presente che il druido di Diablo 4 è un po' sovrappeso, diciamo un po' ciabbi, ecco, lo spiritista è il druido ma in forma, e quindi tra gli spiriti a cui lo spiritista potrà associarsi sono presenti il jaguaro, sanno 4, il jaguaro, il gorilla, l'aquila e il centopiedi, che fa un po' schifo devo dire, però vabbè, quindi il jaguaro aumenta la velocità d'attacco del 30%, diciamo, ognuno di questi spiriti fornisce un bonus passivo, oltre ovviamente alle abilità espellative, però se guardiamo i bonus passivi, con lo spirito del jaguaro aumenta la velocità d'attacco del 30%, il gorilla fornisce il 30% di riduzione danni, quindi è molto tankoso, e poi fornisce anche degli attacchi ad area, quindi perfetto per fare AOE e per tankare, poi l'aquila, che aumenta il 30% la velocità di movimento, quindi si va più veloci, e come dicevo il centopiedi, che invece infligge danni da veleno, e il 30% di sottrazione vitale, quindi il centopiedi è la build per chi vorrà poisonare, avvelenare i nemici. Questo è un po' quanto, cioè, diciamo, questo ovviamente è sintetizzando, queste sono le basi della nuova classe. Adesso ci guardiamo il trailer, sono usciti due nuovi trailer in italiano, ce li guardiamo e poi in caso li commentiamo. Sì, lo so che hanno annunciato anche una nuova lega di Patovexa, il MIG, poi ne parliamo. Sì, lo so, lo so che Redaction è critico, però Redaction, te lo posso dire una cosa, io ti voglio bene, però tu non sei obiettivo, perché è da quando è uscito il gioco, un anno fa, più di un anno fa o mai, che io non ti sento dire una sola cosa positiva nei confronti di Diablo, non una. Cioè, io dico, io capisco le critiche, però Blizzard l'avrà fatta una cosa positiva, in un anno, non dico tanto, però una cosa positiva l'avrà fatta, o è tutto solo negativo. Ecco, poi capisco, intendiamoci, ognuno ha diritto alle proprie opinioni, sacrosante, sacrosante, però, però, insomma, cerchiamo anche di essere equilibrati, no, nei commenti. Poi sicuramente non è tutto positivo, infatti io sono anche critico, però, così come non è tutto positivo, non sarà neanche tutto negativo, dai, no. Comunque, vediamoci il trail, sottotitoli, non c'è bisogno di sottotitoli, tolgo l'audio. Tra la mia gente sono in pochi, a diventare spiritisti. Da piccoli, i più promettenti vengono sottoposti, al giudizio della nebbia. La nostra prova inizia, e termina nel dolore. Chi non la supera, viene ucciso. Per i deboli, la strada finisce qui. Per i meritevoli, quella strada conduce a un potere senza eguali, e al sacro dovere di usarlo al meglio. Anche se il mondo mortale, è concepito per spezzarci il cuore, nella mente, e nel corpo, ce n'è un altro, che ci rende audaci. Noi non abbiamo paura. Non abbiamo eguali. Camminiamo con gli antichi guardiani della landa in forne. Il loro potere è il nostro. La loro causa è la nostra. Forgiamo legami inscindibili, nel regno degli spiriti, per annientare gli orrori in questo. Noi... siamo spiritisti. Per annientare gli orrori in questo. Per i esercizi. Per gli isercizi. Per gli isercizi. Bene, questo era il trailer Devo dire, i trailer sono sempre molto belli da parte di Blizzard E poi comunque, diciamo che volendo spezzare una lancia in favore di Blizzard Traducono e doppiano sempre tutti i loro giochi in italiano Che è una cosa da cui anche Amazon Games dovrebbe imparare Detto ciò, detto ciò Sì, il centopiedi fa un po' schifo ragazzi Mi rendo conto Però è soltanto uno spirito su quattro Quindi non siete obbligati a utilizzare il centopiedi Ricordo che oltre a questo fantomatico centopiedi C'è anche il giaguaro, il gorilla e l'aquila Allora, la nuova classe esteticamente mi sembra molto bella A livello meccanico probabilmente sarà fortissima Sicuramente sarà fortissima Non ho dubbi che anche per invogliare i giocatori ad acquistare la nuova espansione Sicuramente la nuova classe sarà OP Certo ragazzi, è inutile che stiamo a cerci attorno È ovvio che anch'io avrei preferito come nuova classe il paladino o il crociato Come tutti Però vi devo dire la verità A me non sembra una brutta classe Sono solo un po' perplesso Sono un po' perplesso sul fatto che sembra una via di mezzo Tra lo sciamano e il monaco di Diablo 3 Nel senso che comunque stiamo parlando di una classe marziale Che si muove con questi attacchi marziali Vedete che si potrà dietro la sua mount apposita Legata al preoid di Vessel of Eitred Attacchimi lì con questa guisarma Con questa labarda E poi potrà evocare appunto gli spiriti Per effettuare degli attacchi ad area Attacchi di vario tipo Allora, vi devo dire la verità Non mi sembra una brutta classe Secondo me la negatività anche qui è un po' esagerata Però mi rendo conto Chi magari dice Ma invece di fare sta roba Cioè, boh, tanto valeva Tanto valeva che riproponessero appunto O il paladino O lo sciamano O il monk Il monaco Che sono classi molto amate Dei vecchi Diablo Qui Blizzard ha fornito una risposta Sul perché non l'ha fatto E la risposta è che volevano Realizzare qualcosa di davvero nuovo Una classe veramente inedita Da un punto di vista artistico Concettuale È effettivamente inedita E il problema è che a livello meccanico Sa abbastanza di déjà vu No Comunque Vedremo, vedremo Red Action Tu dici Perché ancora non vedo una cosa Non ne vedo una di cosa positiva O meglio Le fanno a metà le cose positive Appena hanno una buona idea Hanno già pronto sotto banco Come castrarla Per monetizzarla Ripeto Io rispetto tutte le critiche Però Non Non esagerate ragazzi Non esagerate Sì, comunque Blizzard Io sono d'accordo con Matteo Blizzard comunque Le classi le sa fare Poi ragazzi Io capisco le critiche Però poi qui Cioè veramente vogliamo massacrare Questa classe Sulla base di un video Di due minuti A me sembra un po' prematuro Poi ci sta Che uno dica A me non piace Potevano fare un'altra cosa Però Massacrarla Sulla base di un video Anche io preferivo il paladino Ma brutta Non si può dire che Sono Sono d'accordo con Matteo Comunque se metto una classe all'anno Con l'espansione È un bel ritmo Sì Questo è un discorso interessante Di fatto questa cosa Possiamo dire Che è confermata Diablo 4 Avrà delle espansioni annuali Riceverà un'espansione A pagamento all'anno E ogni espansione Presumibilmente Aggiungerà Una nuova classe Che anche qui Io ho letto la mentele Di chi dice Ma come sono una classe Me ne aspettavo due Eccetera eccetera Perché ovviamente Non siamo mai soddisfatti Però Ragazzi Io Mi permetto di dire una cosa Se guardiamo Al passato di questa saga Al passato di Diablo Non si è mai visto Un ritmo così Così Frenetico Cioè in realtà Blizzard Sta Sta pubblicare Cioè È tanto Pubblicare Una nuova classe all'anno Perché Adesso lasciamo perdere Diablo 1 Se voi guardate Diablo 2 Che erano altri tempi Se voi guardate Diablo 2 Era uscita Nella sola espansione Lord of Destruction Che aveva aggiunto L'assassino E il druido Bellissimo Diablo 2 Capolavoro Sempre nel cuore Però poi Se guardate Diablo 3 In tempi più moderni Diablo 3 Quanto ci avevano messo? Anni Ci avevano messo Due anni Per raggiungere Il crociato Con l'espansione Reaper of Souls Poi Tre anni dopo Era uscito Il negromante Con un DLC Sfigatissimo E basta Allora Rispetto a Diablo 3 Che ha visto Due classi Aggiunte In modo Molto poco convinto Nel corso Di 5 Anni Qui Se davvero Aggiungono Una nuova Classe L'anno Con Ogni Espansione È un ritmo In realtà Bello alto Bello Forsennato Cioè vorrebbe dire Che il prossimo anno Già Potremmo vedere Una nuova classe Ovviamente La speranza Di tutti È che Almeno Nella seconda Espansione Quella che uscirà Alla fine Nel 2025 Potremmo vedere Finalmente Aggiunto Il paladino Barra Crociato Che di essi voglia La speranza Quella è la speranza Di tutta la community Ragazzi Secondo me Se Blizzard Non è stupida Cercherà Anche A un certo punto Ascolterà La community Anche perché Conviene a loro Detto ciò Ragazzi Considerate Che aggiunge Una nuova classe All'interno Di un diablo O comunque Di un gioco Diablo like Non è Una cazzata Perché comunque Bisogna Per come sviluppa Blizzard Le classi Le classi Hanno sempre Diverse build Cioè Non bisogna Confondere Ad esempio Con le classi Dei gacha O con le classi Di black desert Black desert Ogni Ogni sei mesi Aggiungono Una nuova classe È vero Però sono pensati In modo molto diverso Spesso le classi Su black desert Fanno una cosa Invece Per quella Che è la Mentalità Di blizzard Ogni volta Che blizzard Aggiunge Una nuova classe Quella classe Può essere Giocata Con almeno Tre O forse Anche Quattro Stili di gioco Diversi Cioè Almeno Tre build Diverse Come ad esempio Anche le classi Di wow Che ne so Il druido No Il druido Di wow Può fare Un sacco Di cose Diverse Poi certo Diablo 4 È un hack and slash Quindi è un po' diverso Perché in un hack and slash Non hai tutta la varietà Di build Che hai In un mmorpg Però comunque È evidente Che Cioè Quello che voglio dire È che comunque ragazzi C'è più lavoro Di quanto non sembra Perché io spesso leggo Eh ma che ci vuole Per raggiungere la nuova classe Eh che cazzo ci vuole Fai una nuova classe E la butti dentro Non è così facile Ragazzi Perché comunque Bisogna creare Nuove spell Bisogna creare Nuove skill Nuove animazioni Bisogna bilanciare Il tutto Bisogna creare Anche una lore Perché Io mi rendo conto Che magari a tanti Ogni ne frega niente La lore di Diablo Però Diablo 4 Comunque ha una lore Che Blizzard Sta sviluppando Nel tempo E Anche questa cosa È lo spiritista Adesso Parlando a un livello Più Più concettuale Se voi guardate La La conferenza Degli sviluppatori No La live che hanno fatto Iei su Youtube Loro ad un certo punto Rispondono alla domanda Perché lo spiritista C'è proprio Un Una domanda Alla fine Del Q&A Loro fanno questo Q&A No Questa sessione Di domande risposte In cui Alla fine Gli chiedono proprio Perché Avete scelto Lo spiritista Come Nuova classe E non Ad esempio Il paladino Glielo chiedono proprio E lo sviluppatore Il Il designer Di Vessel of Hatred Risponde che Sostanzialmente Loro In Blizzard Vogliono che Come posso dire Vogliono che Ogni classe Arrivi Da Da quella regione Che stanno Sviluppando Cioè Loro Stanno Con Quell'espansione Con la prima Espansione Aggiungono Una zona Ecco La nuova classe Deve venire Da quella zona Da quella regione Del mondo Di Tristram Del mondo Di Scusate Di Sanctuarium Ok Quindi Esempio Prima espansione Di Diablo 4 Vessel of Hatred E ambientata All'interno Di Nan Della regione Di Nantu Che è questa Grossa giungla Che avevamo già Incontrato Avevamo già Esplorato In Diablo 2 Nel terzo Atto Di Diablo 2 La famosa Giungla di Curast Ricordate Ecco Loro Loro hanno Scelto di aggiungere Questa regione Con la prima Espansione E quindi Volevano che La nuova classe Fosse un personaggio Che arriva Da quella regione A livello Di lore No E quindi Non potevano aggiungere Il crociato O il paladino Perché il paladino Storicamente Nella lore Di Diablo Non viene da lì Non viene dalla giungla D'altronde Se ci pensate Non ha molto senso Che un crociato Pesantemente Corazzato Arrivi Dalla giungla No E quindi Proprio Stanno cercando Una coerenza A livello Narrativo A livello Di lore Ora Ripeto Questa cosa Può piacere O non piacere Si può condividere Così come si può Non condividere Però E comunque Una spiegazione Sensata No Cioè il fatto Di voler costruire Una lore Di voler Aggiungere Nuovi contenuti E nuove classi In maniera Coerente Con la lore E con la narrazione Di Diablo 4 Ecco Secondo me È un ragionamento Che fila Poi Fatemi sapere Come la pensate voi Ecco Infatti Adesso Vi leggo Ecco Come dice Rez Ci sta Coerente Secondo me Sì Secondo me Sì Poi vediamo E questa è solo La prima espansione Ragazzi Ce ne saranno Molto altre Allora Allora Eh beh Guarda Redaction Non ti piace Non ti piace Manco la traduzione Eh però Però ti laventi Sempre Non lo so Spirit bone Eh come L'avessi tradotto Spiritista Spirit bone Spiritista E quella roba lì Ma poi in realtà Io Perché non piace Spiritista Spiritista Secondo me È una bella traduzione Guardate che esiste Cioè Un termine dell'italiano Che esiste Lo spiritista È anche un certo Un certo peso Ecco Non sono d'accordo Che sia una brutta traduzione Spirit bone Come dovevamo tradurlo Nel senso Proponete le alternative Ecco Proponete le alternative Magari troviamo Una soluzione Più bella La possiamo proporre Gli sviluppatori Gli mandiamo un'email A A Blizzard Comunque Il trailer è sempre bello Dai il problema viene dopo Sembra molto figo Comunque sembra molto figo A primo impatto Sì Mi sembra divertente A giocare Ma infatti Ma io sono sicuro Che alla fine Sarà divertente Stardust Perché comunque Diablo 4 Puoi dire tutto quello Che vuoi Ma alla fine Come gioco funziona Cioè È divertente Come gameplay loop Massacrare i mob Farmare I boss Almeno Per me è divertente Poi Divertimento soggettivo Ragazzi Comunque Comunque Se mettono Una classe all'anno Con le espansioni È un bel ritmo Sì Sono d'accordo Matteo Da come hanno detto Hanno due team Che sono Partiti In contemporanea Sono partiti In contemporanea A fare questa Espansione E un'altra E hanno altri due team Che partono sempre In contemporanea E fanno le season Sì No è così È così Confermo quanto dice Matteo Lola Hanno due team Che lavorano parallelamente Quindi c'è Un team Che sta lavorando Sulla prossima season Quindi la season 5 C'è un secondo team Che sta lavorando Sulla season successiva Quindi la season 6 Nel frattempo Hanno un team Che sta lavorando Sulla prima espansione Vessel of Hatred Nel frattempo Hanno un quarto team Che sta lavorando Sulla prossima espansione Quella del 2025 Quindi la seconda Espansione a pagamento E voi vi direte Ma quanti cazzo I team sono? Sono tanti ragazzi Perché Blizzard Comunque ha centinaia Di sviluppatori Non è che Non è che sono quattro gatti E su Diablo 4 Ci puntano tanto Ci puntano tanto Su Diablo 4 ragazzi Perché è un gioco Che ha avuto Un enorme successo commerciale Poi noi possiamo Criticarlo quanto volete Però è un gioco Estremamente giocato Quindi a Blizzard Da un punto di vista Aziendale A Blizzard conviene A Blizzard conviene Puntare su Diablo 4 Ecco Ci sono tanti sviluppatori Del team Di Blizzard Che stanno lavorando Su Diablo 4 Diablo 1 e Diablo 2 Erano nella preistoria Con altre idee Sì sono d'accordo Altri giocatori E altra concezione Di videogioco Sì Sono d'accordo Con XLV E hanno proprio Altri tempi Diablo 3 è stato Un mezzo flop E non valeva la spesa Diablo 4 Il primo della saga Che merita Lo sviluppo Sì Purtroppo Il grosso problema Di Diablo 3 È che ha avuto Un lancio terribile Con tutti i problemi Che ricordate La Real Money Action House Che è quella Si che era Paid Win & Mad Eccetera eccetera E siccome ha avuto Tutti questi problemi Poi Blizzard Non ci ha creduto Tanto E infatti Ha pubblicato Un'espansione Un DLC E poi L'ha lasciato Lì a marcire Ed è un peccato Perché Diablo 3 È vero Che è partito male Però Avrebbe potuto diventare Un giocone Veramente Un giocone Della madonna Però Blizzard Non ci ha mai creduto Tanto Cioè L'ha abbandonato A se stesso Dopo un'espansione Da questo punto di vista Diablo 4 Sembra che avrà Uno sviluppo Molto Molto Più consistente E coerente Guarda La verità La sanno loro Ma come ha annunciato Rod Ferguson L'organizzazione Così importante Dello sviluppo È stata fatta Col lancio Della season 1 In seguito Comunque Al lancio potente Sono partiti Col fare due espansioni Devi bilanciare Tutti i contenuti Vecchi E reworkare Tutto il gear Vecchio È un macello Esatto Cioè Sembrano delle cazzate Ragazzi Però Nello sviluppo Di un videogioco O di un'espansione C'è molto Lavoro Dietro le quinte Cioè C'è molto Lavoro A cui magari Un utente Non pensa Neanche Dice Magari Utente Medi Il giocatore Medio Dice Massima Nuova classe Ma che ci vuole In realtà C'è molto Lavoro Dietro le quinte No Ma io ci vedo Diablo 1 Diablo 2 Hanno fatto bene A tagliare i ponti Con le cose Di Diablo 3 Non dico Cosa e perché Qui evidentemente Qualcuno Non l'ha mai giocato Quindi non spoilerò Ah beh Non ti preoccupare Matteo Lola Sì Magari Non spoileriamo Non spoileriamo La fine Di Diablo 3 Però dai Diciamo che Finché si parla Delle meccaniche Di Diablo 3 Non è un problema Ci sta anche Fantasy 14 Ci fanno così Una volta Una classe nuova Originale E poi una Della Lloyd Diciamo Sì Ci sarebbe stato Lo sciamano Però se lo sarebbe O bruciato Poi è lo sciamano Vero Hanno solo Hanno un palazzo Che fanno solo Diablo Sì Sì sicuramente C'hanno centinaia Di sviluppatori A lavoro su quello A me sembra Che si presenti Come un domatore Di spiriti Eh ma è troppo lungo Come nome Domatore Spiritborn Domatore Di spiriti Troppo lungo Non ci starebbe Nel doppiaggio Considerate Anche qui Per tornare al discorso Che facevo prima Ci sono tante cose Da considerare A cui magari uno Non pensa Ragazzi Quando un gioco Viene doppiato In tutte le lingue Bisogna considerare Il fatto Che la traduzione Non sia troppo lunga Perché In inglese Spiritborn E lo dici Veloce No Spiritborn Se devi dire In italiano Domatore Di spiriti Non ci sta Cioè Quando poi I doppiatori Dovranno Doppiare il gioco In italiano Non ci stanno Quei tempi E questa è una cosa Che dovete pensare Perché Ad esempio Me ne parla spesso Il buon Kravuz Che di lavoro Fa proprio Il Si occupa Il direttore Del doppiaggio Dei videogiochi No Queste sono cose Che vanno considerate Ragazzi Per i doppiatori Cioè Se traduci Una parola in inglese Breve Con una parola Molto più lunga Poi I dialoghi Non ci stanno Nel doppiaggio Capite E' proprio Un problema Tecnico Quindi Spiritborn A me viene in mente Spiritista Si Poi non so Se forse Si poteva Spirit Non lo so Ecco Comunque Secondo me Ci sta Ecco Poi possiamo dire La verità La traduzione L'ultimo Dei problemi Proprio L'ultimo Dei problemi Diablo Detto ciò Detto ciò Buonasera Era bello Con le bare Buonasera Come stai Secondo te Lo spiritista Cosa assomiglia Esatto Ne parlavo giusto Prima Era bello Io Quella prima Cosa che ho detto Secondo me Lo spiritista E' un po' Misto tra Lo sciamano E il monaco E i diablo 3 Si E' esattamente Quello che ho detto Poi Ha delle meccaniche Diciamo E' un ibrido Tra lo sciamano E il monaco Di diablo 3 Ma con Con gli animaletti Tipo diablo 4 Tipo druido Tipo druido Diablo 4 Quindi è un po' Un mix Tra varie classi E' una roba Completamente Originale Mai vista No Francamente No Però secondo me Non è una brutta classe Mi dico Questa come la penso io Si Si esatto Adattamento Matteo Lola Si Spesso Col termine Adattamento Si intende Non solo La La traduzione Allora diciamo Mi spiego meglio Questa cosa del doppiaggio Si chiama localizzazione Ok Localizzazione in italiano L'adattamento E' un passo in più E' un passo ulteriore Cioè E' il fatto di adattare La localizzazione La traduzione di un gioco Alla cultura Del popolo Della lingua In cui viene tradotta Quindi diciamo Poi lo sto spiegando male Il buon Kravus Lo spiegherebbe sicuramente meglio Però La localizzazione E' la traduzione Di un prodotto in italiano Detto in parole povere L'adattamento E' un passo in più Cioè il fatto di adattare Quella traduzione Alla cultura Nostra Alla nostra Quella cultura Che abbiamo noi italiani Ok Comunque Ma in realtà Il gioco è ancora Molto giocato Red Poi si Magari su Steam Non è Nei primi cento E' vero Però ricordiamo che su Steam E' uscito molti mesi dopo Su console Ragazzi E' giocatissimo Diablo 4 Ricordate che Ricordate che se parliamo di Hackenslash Su console Diablo Domina Cioè Nel senso che Blizzard ha una potenza di marketing Che altri franchise non hanno Non so Torchlight per dire Bello Bellissimo Torchlight Però Non farà mai i numeri Che fa Diablo Su console C'è Pato Vexile Che sicuramente fa ottimi numeri Però Fidatevi che comunque Diablo 4 E' molto giocato ancora oggi Anche perchè è uscito Non solo sulle nuove console Ma anche sulle vecchie console Ricordiamo che Diablo 4 Gira anche su PS4 E Xbox One Quindi E' molto giocato ragazzi Adesso non vi so dire un numero esatto Non mi interessa ecco Per il discorso che sto facendo Però Però sicuramente E' stato un grande successo commerciale Per Blizzard E non ho dubbi Che anche l'espansione Venderà bene La pomperanno A livello di marketing Fanno un sacco di trailer Fighi Come già hanno fatto Poi sicuramente Ha avuto un calo di player Sicuramente Questo nessuno lo nega Però Se vogliamo E' anche abbastanza Fisiologico Comunque Comunque Volevo vedere ancora questo Vediamo ancora questo video Ragazzi Poi vi dice che ora è Mezzanotte Minchia È tardi ragazzi Quanto doveva questo video 5 minuti Ci vediamo ancora questo video Poi Io vi abbandono Anche perché Sono stanco ragazzi Ho passato tutto il giorno Con le mani Dentro il case A staccare A staccare questa maledetta Scheda video La 4070 Sono stanchissimo Sono stanchissimo Sono una parte Però Una parte rumorosa Potremmo dire Perché sappiamo Quanto Sanno essere rumorosi Social network Ragazzi Però Non è che tutti Sono sui social network No Banalmente Anche io Ho un sacco di amici Che manco ce li hanno I social network No Eh lo so Lo so Matteo Lola Ci sto provando Ci sto provando A farmi fare il rimborso Adesso Adesso Vabbè Adesso è venerdì sera Ma lunedì mattina Mi sentirà Amazon Mi sentirà Mi sentiranno Vabbè Dai Ragazzi Vediamoci ancora Questo filmato Dedicato sempre Allo spiritista Sempre a Diablo 4 Vessel of Hatred Vediamo Che sono i sottotitoli Immagino Che siano già Integrati I sottotitoli Sì Vediamo Poi se Io mi muto Poi se voglio Se devo aggiungere qualcosa Lo dico Vessel of Hatred Is Diablo Scusate Andavo bene Eh Purtroppo mi è andata Di sfiga Matteo Lola Mi è andata Di sfiga Vabbè Vediamo Inside the game Vessel of Hatred Is Diablo 4 First major expansion Where we will venture Far into the dense jungles Of Nahantu It's an ancient place With a deep connection To the spirit realm And it's here That we find our new class The spirit born Ecco vedete Questo È collegato Al discorso Che vi facevo prima Loro dicono Lo spiritista È la nostra Prima classe Che aggiungiamo Con l'espansione Ed è qui Che troviamo La nostra Nuova classe È qui Che troviamo Lo spiritista Poi Perché Gli sviluppatori Di blizzard Hanno fatto Questo discorso Che ci tengono A fare sì Che ogni nuova classe Che viene aggiunta Con un'espansione A pagamento Sia contestualizzata A livello narrativo E a livello di lore Ok E quindi alla giungla Viene lo spiritista Ok Una classe Altissima mobility E anche la più personalizzabile Dicono Vediamo No no Aspetta Parlano troppo velocemente Scusate ragazzi Vi chiedo scusa Vi chiedo scusa se a volte Torno indietro Ma parlano Parlano molto velocemente Quindi a volte torno indietro Di qualche secondo Giusto per Per leggere bene Ecco anche questa cosa Interessante Lui Brent Gibson Il game director Sostanzialmente Ci svela Che questa idea Questa nuova classe È stata poi Un'idea Che è venuta Dal team Dal Dal team Delle classi Con questo Con questo concept art Sapete cosa mi ricorda Mi ricorda un sacco Il Il Com'è che si chiama Oddio Quello di Guild Wars Factions Il Come si chiamava Spiri Spiri Oddio Cazzo Me lo devo assolutamente Quello che Quello di cui parla sempre Askez Guild Wars Factions Che non è il Mistico E Spi Non è lo Spirito Allora aspetta Guild Wars Factions Classi Il Mistico Madonna ragazzi Scusate Ma adesso Devo assolutamente Ricordarmela No no Il Davish Di Nightfall Il ritualista Il ritualista Il ritualista Ricorda Ecco Ecco Diciamo che se proprio Volevano trovare una traduzione Potevano chiamarlo Ritualista Perché È letteralmente Quella roba lì È il ritualista Di Guild Wars Factions Che evoca gli spiriti Eccetera Eccetera Bello del viscio Comunque Raph Ganni Sempre nel cuore Però non è a quello Che intendevo Eh sì sì Spiriti Ma spiritista Va bene Va bene L'aquila Il centopiedi Il jaguaro E il gorilla E il gorilla L' eagle È principalmente basato Tra la precisione E l'impacto E il movimento Truramente Il battlefield Sono davvero Buono a prendere Le target priorità E in e out Di combattio Con il centipede Molto di questo È un'attività Il controllo Hai un poesino Primarily E questo Che aiuta Sì L'attività Eccolo Il centopiedi Bello schifosone È ritualista È ferocious È vicious È all about That hard Swift Slashing Hitting Action That you would expect From a predator A hunter The gorilla Is very defensive When you think Of a tank Type of class Or a fighting style That's the gorilla They're able To both take damage But also deal it back To anybody Who hurts them I think we're covering A nice spectrum Of themes Going from the gorilla To the centipede It just there's a lot To choose from Even though A lot of our powers Are inspired From many classes That we've seen Across the franchise We really felt It was important Attenzione Questa roba Anche importante Lui dice Molti dei poteri Nel gioco Sono ispirati Dalle molte classi Presentate Nel corso Del franchise Quindi in pratica Sta ammettendo Che Lo spiritista Prende molte cose Dalle vecchie classi Dei vecchi Diablo E' effettivamente È vero Però al tempo stesso Hanno voluto fare Qualcosa di nuovo Ok Però non capisco Molti Vabbè 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 Cioè a livello Di animazioni Molto You can assign skills For any of the spirit Guardians to your skill bar Like maybe something from Jaguar That you want to hit quick And you want for any of the spirit Guardians to your skill bar Like maybe something from Jaguar That you want to hit quick And you want to hit hard Fammi fammi Quindi sarà possibile Assegnare abilità Da qualsiasi spirito Guardiano Quindi non è che Non è che Saremo costretti A scegliere Le abilità Solo da uno Si possono Mix e matchare Abilità da tutti e quattro Gli spiriti guardiani Poi bisogna Scegliere uno A cui Come dire Giurare fedeltà Però le abilità Si possono mescolare Tra tutti e quattro Gli spiriti guardiani Quindi Aquila Centopiedi Jaguaro E Gorilla Ma questo è molto Intrigante Come cosa Molto intrigante Probabilmente si E poi questa cosa Invece questa cosa Ricorda il druido Sapete che anche Questa cosa Della sala degli spiriti Anche il druido Deve andare a In quella cittadella In Diablo 4 In cui c'è una sala In cui sceglie Con quale spirito Attunarsi Cioè Con quale spirito Sintonizzarsi Ok Quindi hanno preso Un po' di robe Dal druido Un po' di robe Dallo sciamano Un po' di robe Dal monaco Di Diablo 3 E un po' E una classe ibrida Però vi dico la verità Secondo me È molto interessante Perché A livello di build Probabilmente Questa classe Permetterà Una libertà Di scelta E di theorycrafting Che tutte le altre Classi non hanno Secondo me Secondo me Players can choose From the four spirits To empower Their skills With a passive ability That allows them To further customize Their builds With devastating effects Based on each spirit's Core themes There's a playstyle To fit anyone If the lightning Eagle Really resonates You can go Full eagle Or you can Mix and match And do Whatever you like Depending on How you like To play The ultimates Are all Pretty amazing Because you Manifest The entire spirit Into the world And they Destroy everything For you While powering you up The centipede For example La seconda arma È il quarterstaff Il bastone ferrato In italiano E qui sembra davvero Il monaco Col bastone Vabbè certo Ci saranno Nuovi oggetti Leggendari Nuovi affissi Leggendari Ovvio Devo dire Non mi sembra male La possibilità Di creare Lo spiritista Come volete Blizzard punta Tanto su questo Libertà di build Beh che dire Ragazzi Lo proveremo Sicuramente Lo proveremo Quando uscirà Vesselovei 3 Da ottobre Vedremo Vedremo Allora Allora Che si dice Chissà se c'è Tutta la mappa Diablo 2 Mi piacerebbe Vedere loot Golane Con la nuova Grafica Non lo so Ma non Non credo A me no Aspetta Aspetta Tu intendi Con questa espansione Con questa espansione Sicuramente no Cioè Non si va Loot Golane Con Vesselovei 3 Si va Nella giungla Di Nantu O di Kurast Con le prossime E' possibile Che prima o poi Effettivamente Andremo Nel deserto E a loot Golane Quello lo spero Si magari Con la prossima Espansione Sarebbe molto figo Prima o poi Credo che arriverà Dato che Blizzard Sta continuando A espandere Il world building No Il mondo Viettuale Di Diablo 4 Sarà Molto figo Magari Con la prossima Espansione Seconda Espansione A pagamento Quella che usce Al prossimo Anno Magari Ci Magari Mettono Come nuova Ejone Come nuova Zona Il deserto Con la splendente Città Di Lut Golane E magari Ci danno Anche Il paladino Sarebbe Sarebbe L'espansione Perfetta Per acchiappare I nostalgici Come me Però sto sognando Ad occhi aperti Però è bello Sognare Chissà Magari Io mi ricordo Mi ricordo che Seguo il tipo Delle classi Su tweet Diciamo il direttore Delle classi Si si è giusto E lo vedevo Che metteva Le foto di Monster Hunter World Che giocava Col bastone Insetto Forse gli è venuta Voglia da lì Ah ho capito Monster Hunter Si anche il nuovo Monster Hunter Rise Che c'è il bastone Il bastone filo Ho capito Ho capito Era quello che faceva Tra le varie cose Gli spiriti incatenati Si esatto Raph Gunny Era lui Il ritualista Di Guild Wars Factions Era proprio lui Classe Bellissima Meravigliosa Sicuramente Si potrà buildare Tipo la vecchia Amazzone Non lo so Vedremo Vedremo Secondo me L'Amazzone È una classe Che Non rivedremo In Diablo 4 Perché è già stata Reintegrata Nel Rogue Cioè nel Tagliagole In una build Del Tagliagole E C'è già l'Amazzone No Quindi Quello è Secondo me Mi ricordo Ancora Il Serpente Fetente Mi pare fosse Quello Oddio Che cos'è Il Serpente Fetente Dici Di Diablo 4 Secondo me Ti piacerà Ma si Anche secondo me Stardust Poi comunque A me Gli Akerslash Piacciono Lo sapete Credo che Mi divertirò Poi Da qui Da qui a dire Che sarà La mia classe Preferita Di sempre Non penso Però Mi sembra Comunque una classe Sviluppata Con un disegno Con un progetto Ecco Con una visione Poi ripeto Può piacere o non piacere Si può essere d'accordo Con quello che sta facendo Blizza Oppure no Però comunque Vedo un progetto E una visione Dietro a quello Che stanno facendo Con Vestalo Veitred Quindi sarà solo La giungla Allargata Si Di fatto Questa espansione Aggiungerà Un nuovo atto Della storia Che sarà un atto Immagino Abbastanza lungo Abbastanza vasto Però comunque Un atto solo Quindi si Non ti aspettai Più Più regioni Perché Con Vestalo Veitred Vedremo soltanto La regione Della giungla Con tutte le sue Propaggini La città Tempio Di Travincal Eccetera Eccetera Però si Lutgoleina Non la vedremo Con Vestalo Veitred Ragazzi Questo Questo è poco Ma sicuro Ah giusto Il serpente del druido Certo Stardust Se sei Mi ricordo Mi ricordo A me Guarda Guarda Redaction Se ti posso Tranquillizzare Lo avevamo capito Che Blizzard Ti ha perso Definitivamente Come cliente Lo avevamo Lo avevo Immaginato Non so perché Ma lo avevo L'avevo capito Devo dire la verità E' un anno Che scrivi solo Cose negative Quindi Diciamo che Un'idea Già me l'ho fatta Detto ciò Ragazzi Scherzi a parte Ovviamente Ognuno può pensarla Come vuole Niente Direi che siamo in chiusura Anche perché Mezzanotte 35 Io sono Stanco Molto Ragazzi Oltre che Col morale A terra Perché io speravo Di aver risolto Una volta Poi tutte Questo problema Della scheda video Ma così Non è Ma non si molla Non si molla Un cazzo Tornerò Non mi arrendo Continuerò a combattere Amazon Tornerà molto presto Sentirmi Sì io Rogue lo uso Con laico Esatto Matteo Quello intendevo Che di fatto L'amazzone Non la vedremo Come nuova classe In Diablo 4 Perché è già stata Integrata All'interno del Rogue Anche perché Se ci pensate L'amazzone È una classe Solo femminile Cioè non puoi mettere L'amazzono No Cioè l'amazzone Per definizione È una classe Solo femminile E Blizzard Però ha sempre detto Di aver tolto Il gender lock Da Diablo 4 Cioè tutte le classi Che metteranno In Diablo 4 Saranno sia maschili Che femminili E quindi questo Vi fa capire Che non metteranno Mai l'amazzone Proprio Se ci pensate Il mio ragionamento Non fa una grinza Ragazzi Però Ripeto Per chi volesse giocare Una build simile Alla vecchia Amazzone di Diablo 2 Scegliete Il Rogue Il tagliagone Calcolando che ci sono Pure quelle specie I ride Che ancora non abbiamo visto Esatto Matteo Lola È giunta l'ora Della nanna A voglia Eh sì Stardust È proprio giunta l'ora Torniamo a schermo intero Così ci salutiamo Dai alla fine Sono contento Comunque stasera Abbiamo fatto Un bel discorso Quasi tre ore Di chiacchiere Ho visto che eravate Anche in tanti Molto partecipativi Questo ovviamente Mi fa piacere Avrei voluto portarvi L'open beta Avrei voluto continuare L'open beta Di Tron e Liberty Purtroppo il fato Ha deciso diversamente Pazienza È andata così ragazzi Ma ovviamente Torneremo a provarlo Tron e Liberty Poi Molto bene Eccomi Allora 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 Fermi tutti Bene Io Io vi ringrazio Per essere stati con me Fino quasi All'una di notte Mezzanotte 38 Ma Prima di Salutarci Permettetemi Di ringraziare Passa797 Che È passato Appunto E si è abbonato Per 11 mesi Grandissimo Vero massivo Postumano Grazie mille Di cuore Passa797 Grande Grandi ragazzi Quindi Non posso che invitarvi A seguire Il buon esempio Di Passa797 Iscrivendovi Anche voi Followandoci Abbonandovi E anche perché Siamo vicini Stiamo Siamo per tornare Al traguardo Dei 100 massivi Postumani Dai Per il resto Buonanotte Grazie Elion Grazie mille Mi sa che Si deve ringraziare Anche un utente Prima No Al vendirita Cioè Prima di Passa7 Si è abbonato Al vendirita Ma l'ho ringraziato Lo ringrazio ancora Grande al vendi E comunque Dovrei aver ringraziato Tutti E anche i nostri Noi follower Grandi ragazzi Ovviamente Benvenuti Su mmo Punto it Niente Ragazzi È tutto Io vi Vi auguro Un buon weekend State bene Rilassatevi Divertite Vi giocate Videogiocate E noi ci vediamo Ah Attenzione Fondamentale Fermi tutti Mi stavo dimenticando Una cosa importante Ecco qua Noi ci vediamo Già lunedì sera Allora Lunedì sera Ovviamente Ci sarà una nuova puntata Del salotto Degli MMO Insieme al Buonaskes Ma Attenzione Non saremo da soli Perché Insieme A me E al Buonaskes Avremo Come ospite speciale Jacopo Galelli Ebbene sì Proprio lui A grande richiesta Tornerà Il Gal Il Galuelli Il Galuelli CEO di Dynamite Studios In vista Del lancio ufficiale Di Fractured Online Che ricordiamo Esce ufficialmente La prossima settimana Il 24 luglio E tornerà ospite Sul nostro canale Appunto Lunedì sera E quindi Non mancate ragazzi Perché sarà Una Una serata Delle grandi occasioni Un salotto Di quelli Una puntatona Del salotto E Sarà La prova del fuoco Il momento Della veità Per Fractured Online Ce la farà Oppure no Lo scopriremo Lunedì sera E con questo È davvero tutto Ragazzi Io vi ringrazio Per essere stati con me Eccomi Volevo salutarvi Per bene Vi ringrazio Per essere stati con me Per tutti gli abbonamenti Discrizioni Follow Tutto quanto Passate un buon weekend Siete dei grandi E mi raccomando Restate sempre Connessi Aggiornati E massivi Su MMO.it Bella Buonanotte E buon weekend Grandi E buon weekend Siete dei grandi 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 Siete dei grandi